Hello Hello gente Amogus Amogus Che schifo una papera Ehi ma quello è Krilin Oh no Raga Oggi Aggiornamento delle mod Si possono utilizzare sulla mappa nuova Hanno aggiunto anche degli altri ruoli Tra cui l'altruista Che ha l'unico scopo di far Risuscitare dado praticamente Grazie Ai creatori della moda che ci hanno pensato L'altruista può far risuscitare Un cadavere però Si sacrifica Ehm Poi hanno aggiunto anche Tra i modifiers Il gigante Che è una persona più grande e una più lenta E boh nient'altro Di nuovo Il buttonberry Ma non l'abbiamo messo Non l'abbiamo messo Hai messo il gigante ma sei matto Grazie Black Dragon per i 13 Whiteless per i 10 Alessia Marinoni per i 12 Un anno Grazie Alex Boyce per i 12 Eri 47 per il prime M Gimples per i 13 Perché non sento Il bot che mi legge messaggi No Sì C'è un problema Caro mio Ehm Alberto Axel A,S,A,N,T,A,ST IL,C,T,T,Z Dei tanti Ah raga già come si chiamano Uttivest Perché non Mi hanno accalato l'account Signore e signori Buonasera Non posso fare il cambio nome e non so perché, quindi... Buonasera a lei, Phoenix. Dimmi, camper, qual è il problema? Gambor. No, niente, era il bot che era un po' impallato, quello dei messaggi dei bot. Dei bot. Cosa hai detto su mia madre? Grazie, Leo Saccons per gli undici. Non posso. Non ti posso guardare con quella faccia. Me ne vado. Jaco Ghiro per il Prime. Benvenuti e bentornati tutti quanti. Grazie, Gabri PNG per il Prime. Ti sgozzo, stupido. Dove sei? No. C'è? C'ho un coltellino, guarda. Cominciamo? Ne cominciamo una? Buonasera. Con questo siamo a dieci. Grazie, giù, Chris. Benvenuto. Grazie per i dieci. Dai, partiamo. Partiamo, partiamo, partiamo. E adesso è come... Bocca al lupo, eh? Bocca al lupo. Bocca al lupo. Ah, sono medico. E ho la malattia. Quindi chi mi uccide non può killare altre persone in quel round. O comunque ha un cooldown aumentato. Grazie Antokanna per i nove. 17. 17. Ok. Ehm... Vedi... Guarda quanto è grande, Ray. Ci guarda quanto è grande e lento. Io vado all'oscuro, mi farebbe tristezza, tristezza, dovesse morire. Ah, Mogus. Ah, Mogus. Ma c'è l'audio bassista. No, sono stupido io. Ma per te domande, è il gioco che scatticchia di questo? Ma anche me sta scatticchiando, infatti io volevo chiedere. Tolete il V-Sync? Io ce l'ho attivo e non mi scatticchia. Neanche a me. Ma è una roba percettibile, sono dagli occhi esperti. Perché le nostre skin sono ultra HD rispetto al background schifoso? Ma come? C'è davvero vera, scusate. Electrical. Sì, ho appena visto Axel passare da lì da Cargo Bay. Siamo spawnati insieme. Io sono a record adesso. Allora, c'è da dire una cosa. Io l'ho visto 5 secondi fa Axel e ho preso la scala. Quindi l'ha visto Dado, l'ha visto Giacomo, uno dei due, ha ucciso Axel. Sicuramente non Shiba e non Rage e non io. Vi stavamo insieme. Ragazzi, io... Io stavo correndo per la mappa. Non avrebbe senso da quel che ho fatto. Però ve lo giuro, l'ho visto 5 secondi fa. Ma chi è il record? Chi è io? Io. Ah, io ho visto te allora. E tra l'altro ho visto il signor spawn vicino ad una botola. Ma che cazzo dici? Ho fatto... Stavo guardando se perché non mi andassero là e non mi lasse l'audio del gioco. Amo... È un po' su queste cose, non mi piace molto. Chi vota Natti Vest è un pazzo. Buonasera caro, prossimo video. Domani su Newbe Gaming è gara su GTA. Doveva uscire oggi ma abbiamo avuto problemi nel montaggio perché... Io come Bernie Sanders ad aspettare vaccino. Grazie Axel per i tredici. Dicevo sì, domani esce il video su Newbe Gaming. Una gara su GTA in compagnia di scada e Rage. Dura 25, 25 minuti. E voi direte, ma non avete editato? No, abbiamo editato. So che dura un'ora il video. Grazie Traian Junior per i undici. Marco Zang per il Prime. Rozzolo per i dieci. Grazie a tutti i gentilissimi. Come si chiama Shiba su Twitch? Teoricamente, Kindy Shiba? Grazie per la compagnia che mi fate. Grazie a te Gabriella. Ah, mocoi. Main hall? È morto in main hall dal nulla. Sì. Forse si è suicidato. Non lo so. Non lo so, perché a me sta scattando un pochettino, però non lo so. Se c'è lo swooper è un problema. Ma ci potrebbe o hai messo diversi impostori? Ah, può essere il miner, ci può essere lo swooper, ci può essere il morphling. Vedi un po'. Camper non è, era in engine room. Io che ho pensato fosse dato l'impostore. Ma Rage lo sa benissimo che non sono io. Non vorrei che avessi provato a sparare con me a Rage perché io sto vedendo il gioco a scattare. Le persone che c'erano erano Spawn, Cocco, Rage Shiba. No, 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 no. Scusa, Spawn, te li a destra. Da tutt'altra parte. Io se aspettavi a riportare col colore, vai, vado. Magari evitiamo di puntare. Io ho visto un cadavere cadere dal nulla, ho detto... Amogus, che succede? Io schippo Camper non è in questo caso perché era in engine room. Ma non lo è in generale. In generale, ok. In generale non lo è. Comunque dovrei avercela fatta, per la partita dopo ci sono. Buono. Grazie Kala per i quattro, bentornato. Grazie Favijai is the best per i dodici. Finalmente un anno, come va? Eh, va che la va. Volevamo pubblicare di più, ma... Sempre un imprevisto ultimamente. Buonasera ragazzi, buona live. Grazie Bernie per i due. Grazie Ardafi per i tre. Grazie a tutti. No, mancano 20 secondi. Che brutta tasca. E siamo a un anno. Complimenti per tutto. Grazie Nick, gentilissimo. Telecamere? No, sono i risultati. Grazie a ragazzi per farmi sempre ridere in ogni momento no. Penso di conoscere ogni vostro video a... 69, 19, 5979. 19, 29. Grazie Federico Z per i set. Un saluto da Bruxelles Camper, ma quanto godi a ripetere le regole in ogni levee. Lacrime di gioia, lacrime di gioia. Lacrime scarlatte, se non le spiego io chi le spiega raga? Chi le spiega? Poi sono la persona più concisa a spiegare le regole. Gli altri sono prurissimi. Grazie Leone per i cinque. E niente, è finita la partita. Rido, rido molto. Grazie Rage. Peccato. Ma è... Ci ho provato Spawn. Che atto di fede. Ma perché Rage era così... Ragazzi, un attimo riavvio al gioco. Perché io vedo che sto volando nel nulla... Ma Rage è il gigante. Non è un bug, era così. C'è il gigante. Tra l'altro lì sta proprio gigante. No, c'è il gigante. Ah, ok, sì, sì. Modifier. Comunque forse il cooldown alle kill è troppo basso e basso. Non trovo troppe kill. Eh, sì, devo cambiarle. Su questa app devo cambiarle. Ero lo snitch, sapevo tutto. Eh, e ti volevo arrivare. Ma i morti perché non si mettono a fare le comunicazioni, ragazzi? Non si mettono a fare le comunicazioni, ragazzi. Se sistemavano le comsi, correvo come un pazzo al bottone. Cioè, correvo lentissimamente come un pazzo al bottone. Rage, io volevo ammazzare te. Avevi lo scudo. Allora sono salito e ho ammazzato. Ho visto Spawn con la freccetta e ho detto, nah. Nah. Merda, ragazzi, sapevo tutto. Sapevo tutto. In modo attivo. Ho fatto un po' di danza intorno al tavolo di comunicazione. Ma questa è la prima volta che ho avuto sinergia con noi, ragazzi. Quattro mesi in vostra compagnia. Quattro mesi in vostra compagnia. Come state, mi dispiace non seguirvi così tanto in live. Ma purtroppo l'università mi sta portando via tempo e vita. Ma almeno sul tubo vi seguo sempre da ormai sei anni a questa parte. Un bacio, Kemper, e buona fortuna. Grazie Koichi 13 per i quattro. La va che stiamo lavorando cercando di aumentare il ritmo. Un po' che votiamo avanti allo studio. Un po' altri progetti. Ma dai, ce la faremo entro l'estate. Dai, cazzo. Tastino revive proprio. Ah, io sarò un po' egoista. Ma poi arriva i vari, solo le persone che sono già a terra. Che è Silente? Sono io, sono io. Ah, Samo? Salve a tutti. Salve. No, sono al busto. Al busto. Ok, partiamo. Fatemi tirare sulla bacchetta e arrivo. Guarda che metteranno il ruolo del mago su questa mod. Effettivamente. Che so che ci sarà. No, c'è Jugger. Medico ancora, perché questo gioco è proprio scriptato. Però la torce posso vedere nell'oscurità. Tempo di scappare. È fortissimo. Ho i Kalashnikov. Ora non mi devo più scappare. A posto. Il medico cosa fa? Può dare uno scudo e può ottenere informazioni aggiuntive dai cadaveri che reporta. Andiamo in cockpit. Lo spiego per chi magari non conoscesse ancora la mod. No, non è Merluzzo, raga. È Samo. Il ragazzo che faceva le schede di lundini su... Su subreddit. Eh, Giacomo. Che non può chiamarsi Giacomo, perché boh, c'è la monga sbaggato. Eh, andiamo a telecamere. No, ho sbagliato. L'ho dato a cocco, l'ho dato a cocco. Siamo tutti fattuti. Sarai impostore assieme a Dado. Volevo darlo a Rage. Fuck, la mia vita. Dove? Allora? 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 Eravamo quattro in telecamere adesso. Io ero ai pallini. Dov'era il cadavere, Giovan? In main hall. Eh, saperanno dove cazzo sta a main hall. È quello con tutte le stanzine, tipo. Dove c'è le camerette quelle a vicolo cieco? Ok. Faccio una domanda a Spawn. Perché Spawn si è stato per un ammasso di tempo abbastanza rilevante fermo in armeria? Ho fatto delle pistole. Quanto ci vuole a mettere quattro pistole a posto? Eh, devo raccoglierle. Eh, gioca a Urgut, lui. Le puoi raccogliere tutte insieme, Spawn. Non c'è bisogno di fare. Sì, 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 vabbè. Ne ho raccogliate due, poi ho detto aspetta, posso raccoglierne quattro? Raccogliamene quattro. Buonasera, tutto bene? Stavo tanto tempo in armeria. Ho fatto questa kill e suppongo che, cos'è? Tado, Camper e Rage siano safe. Perché da di là arrivavano già come Axel, quindi non lo so. Io ero a sinistra. Io ero a vedere i pallini. Vi dico che dalle camps inizio game, che mi ha visto anche Giova, ho visto Camper in engine room che andava verso destra che è collegata a main hall. Vabbè, ma è morto da... non lo so. Io dico questo, magari anche lui può essere sospettato perché è stato in quella zona. Ok, poi mettiamolo fuori. Ok, ok. Grazie Alex per i 14, tutto a posto. Quando esce la terza parte del colpo? Grazie Alessandro, ci vorrà un po'. Ci vorrà un po' perché siamo a un video di due ore. Perché il colpo finale ci avevamo messo un bel po' per farlo. Ci vorrà un bel po'. E Natti, il resto è Giacomo, per chi non l'avesse capito, non riesce a chiamarsi in maniera normale. Uh, Silente è gigante, guardalo, guardalo quanto è grosso. Samu. Grazie Kreebossi per i 9. Ma ha shiftato il bastardo, no! M'ha shiftato, mi ha rubato il potere. Merdoso. Bella camper. Grazie Kreebossi per i 9. Grazie Miriam per l'abbonamento. Alessandro per i... Alessandro Prime, 17 per i 6. Dove? Il raid si è sparato addosso a me. Domanda. A me è morto il tipo che mi ha shieldato. E io ho visto uno botolare. Eh, esatto. Io anche ho visto uno botolare, il problema è che dai miei pallini è dato quello che ha botolato. Io ho visto botolare spawn, raga. Io ho visto botolare ti è dato, quindi a meno che sei... Spawn è morto, raga. Meno che sei l'ingegnere. Eh, io ho letteralmente visto botolare spawn, che stava nel corridoio, quello principale, in mezzo alla mappa. Non so come si chiama. Ma inova. È entrato in una stanza. È entrato in una stanza. Ah, cazzo. È silenzio. È entrato in una stanza. Ah, ho capito cos'è successo, allora. Ha visto che cosa è successo. Rage ha trovato il caravere di silenzio, ma ha visto in un posto abbastanza sospetto e mi ha stabbato. Però io non ero il killer, caro mio Rage. Perché Sirente era un ladro. Un maledettissimo ladro. Dobbiamo buttare fuori un giocatore. Vabbè, sentite. Dato comunque è l'impostore. Fate come cazzo vi pare. Ciao. Ha bottolato, l'ho visto nelle palline della spia. Non sono... Non è dato. Non è dato. Io l'ho già votato. Non avrebbe detto che spawn ha bottolato. Sì, niente, è andato. Vabbè, io lo dico. Se riuscite a salvarvi è un miracolo. Cazzo. La shifter ha praticamente intanto il game. No, 15 secondi di culo. Ma sono anche... Oh, è grande. Grazie, chest, nut warrior per i tre. Ciao, posso fare una domanda che ci facciamo tutti? Che fine ha fatto lo scarso? Ed inoltre potresti reintrodurre i ruoli. Minore tre. Puttana, siamo tutti giganti. Oh, no. Oh, mio Dio. No. Non pensavo di rubarli anche dell'essere giganti. Grazie, postino spaziale, per l'abbonamento. Eh, quanto è difficile. Oh, yes. Sono trovato normale. Grazie, dottor Juan Danirone per i sei. Cribossi per i nove. Miriam per l'abbonamento. Holy shit. Dov'è Cocco? Dov'è Cocco? No, 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 no. Devo trovare qualcuno. Non mi interessa. Devo trovare qualcuno. Oh, sono io la spia. Allora. Io e Axel siamo safe. Uno tra Giacomo e Cocco. Cocco. Nova era con te, camper. Non è Giacomo. Sì, sì, era con me, ma Axel sa benissimo che sono safe. Andrea è buono e non è Giacomo, perché nel momento in cui... E allora fuori Cocco. Nel momento ancora aveva ancora i miei diritti, mi sento che Giacomo stava tranquillamente ai mezzi per tutto il tempo a guardarci... Fuori Cocco, che era finalmente la persona con cui ho lasciato Nova. Credo... Ma che cazzo dici, camper? Te l'ho ammazzato davanti. Beh... Perdonami, non ho visto, perché... L'avevano shiftato e stavo bestemmiando per lo shift. Ma io ho visto 30 giganti. Ho detto, ma che cazzo sta succedendo? No, no, ti è stato un problema. Ho visto Nova, poi c'è stata vicenda. E c'era sì, lente. Poi ho visto anche camper, poi camper... No, no, fermo, fermo, fermo. Io e Andrea eravamo entrambi... Eravamo entrambi shifter. Eravamo vicenda. Allora, spiega come è successo. Io ero un crewmate. Ero un crewmate normalissimo, eh. Naryl! Mi spiego che cos'è successo. Mi ha rubato il ruolo... Credo Samu mi ha rubato il ruolo. Sì. E quindi io avevo il cooldown dello shift e stavo fermo lì. Regi probabilmente ha visto Samu morto, ha visto me in un angolo che aspettavo il cooldown e mi ha stabbato. Ma io ero lo shifter. Che è successo? Che da shifter ho rubato poi il ruolo, nel round dopo, a Nova. E sono andato gigante. Ma i giganti sono tipo super lenti. Ok, quindi abbiamo due giganti super lenti. Tanto è che Nova mi ha rirubbato lo shifter. E con questo mese sono a dodici. Mi ha rirubbato il ruolo. E dopodiché io sono tornato shifter, quindi sono corso via. Ho trovato Nova morto, ma non ho riportato. Ho detto, no, prima di riportare cerco qualcuno da shiftare. Ho beccato Axel, l'ho shiftato e l'ho riportato. Nova, tu hai votato dado quando avete votato tutti i dati. Grazie Elvis, Jordi per i dodici. Cava per il Prime, paracadute sulle spalle. Let's go per il Prime. Io ho votato lo skip. Cocco avrà votato lo skip, immagino. Ma io pensavo che Nova skipasse. Quando ho detto, non penso sia dato, ho detto, hmm, free game. Ma skip a prescinde, che te frega. Sono un altruista, posso sacrificarmi per risuscitare qualcuno. Grazie Boghude per i tre. Triste come ruolo. E che è su Gesù Cristo? Mannaggia, oh, che ruolo di merda. Non mi si addice questo ruolo, non mi si addice. Grazie a Leo Mora per il 1500 bit, gentilissimo. Devo trovare i cadaveri. Non ci sono cadaveri, ragazzi? Com'è che è morto nessuno? Da dove? Non è, non è, non è, è invisibile. Sarà lo super. Vi seguo dalla Bosnia e da Herzegovina. Grazie Arnel, per i sette. Hai portato qualcosa barra qualcuno, ma non so che cosa barra qualcuno. Eh, camper. Eh, sai dove l'ho riportato, Shiba? No. Cucina? Hai presente che ti stai facendo? Praticamente l'altruista e rifa di Dragon Ball? Ti sacrifichi alla modia di utensing? Esatto, esatto, Koishi, esatto. Bravo, esatto. No, stavo parlando con la donazione, scusate, non stavo ascoltando la discussione. Io ho riportato dalla porta, ma non ho... Stavo facendo il download. Fili, mi indido, vero. Fili. Non lo so, non c'era nella mia visuale. Non c'era nella mia visuale. Ma te dove cazzo eri? Ero dalla porta di admin. Di comms, scusatemi. E domandina, piccina, piccina. Comunque bisogna aumentare il voto in time, perché non si riesce a dire un cazzo. Buonasera. Seconda cosa... Ci avessi un po' dado. Scusate. Sì, ma è troppo poco. Axel, te cosa stai facendo fermo shower per tutto il tempo? La noccia. La noccia? No. Non c'hai niente da fare lì per 20 secondi, fermo. E chi lo dice? Che puzza. C'è chi si lavava più velocemente e chi meno. Beh, pensa a me, Giacomo, che mi torna. Eh, Reggio, ho visto, è bello, è significante, raga. Io non ho ancora visto. Io impersonifico me stesso nella realtà, quindi. Allora, sì, è vero. Grazie, Mr. Liam, per i tre. Grazie, Spacca, per i 14. Bella camper, volevo dirti di non trollare, ma sei morto subito. Spacca, so mica da che cosa su ProGrab che trolli sempre. Oddio, ma questa? Devo fare. Ah, ok. Cosa fa l'altruista? Potevo risuscitare un corpo, un cadavere, a costo della mia vita. Eh, il mio ruolo, il mio lavoro, se non fossi uno youtuber. C'è un crewmate semplice, probabilmente, credo sia... Lo snitch? Perché lo snitch? Rage? Quanto è grosso! Quanto è grosso! A me fa troppo ridere. Poi con ste skin nuove, c'è le skin della mod. Guardalo, guardalo, che fatica che fa! Ah, cocco mi ha fatto che sono i due killer! Ma non è giusto che un gigante immortale fa tutti i pistoni killer! Raga, sa tutto! In che senso? Allora, io sono lo snitch, E ho lo scudo Mi hanno stabbato cocco E sponso Ma raga, ma non vale! Io avevo le crisi epilettiche per lo schermo verde che continuo a lampeggiare Io trovo che Rage sia da buttare fuori Volevo uccidere qualcuno e l'unica che ho trovato è sciva, mi dispiace Perché vedi i... Perché lo snitch? Perché lo snitch? Perché ho messo che lo scudo da informazioni quando una persona prova a uccide una persona Comunque ho avuto più o meno 60 informazioni da Rage Comunque, vabbè, io stavo insieme a Giacomo e stavo a girare mezza le botole E ho detto, vado a farmi un giro Ciao Giacomo Ti vogliamo per primo? Hai prima cocco perché è quello che ho visto proprio sgozzare Michelle Grande, io stavo cercando una persona qualunque Ho detto, va, santo, sanno già chi sono Sanno chi sono Era una testuggine da guerra Non moriva, non veniva Andavo lentissimo Correvo verso il bottone Alla Baywatch Zombie post game Grazie, Vincento, per il Prime Benvenuto Non serve manco mutarsi Cosa c'è l'altro? 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 È Silente, è Samu Infatti deve chiamarsi Samu e basta Samu e basta Samu e basta proprio Samu e basta Vabbè Oi Shiba Ti è piaciuta? No È l'unica persona da sola Pensavo di essere lo snitch Ho detto, dai, guarda che bello Ho finito tutte le task Mi hai sgozzato appena le ho finite Eh, la cosa più bella Ho visto una freccia che mi indicava una persona gigante E aveva pure uno scudo Ho visto il mio compare invisibile Cercherò di ammazzarlo Ma è finita male Eh, ma ci no Domanda! Ma io sono stupido di non poterti il cine Rage parca montana È passato Nova tipo La bodyguard del presidente Si è lanciato sul proiettile per me Era proprio La cecchina da JFK Ma l'ova si è buttato in mezzo C'è rimasta lì Ma l'ingegnere ha un fix solo a partita? Eh sì L'ho messo solo a partita Ah, partita? Sì Se no è troppo P Un carico per me è Rage Ma c'è qualcuno che mi ha votato Comunque È il genio Ma no, Silente Che cazzo voti? Eh, causa, causa Cosa fa? Mettiti il nome Samu nel gioco Altrimenti tutti quanti mi chiedono Chi è Silente Ehi, puoi parlare Dici, sono io Ma perché io sono tre Due volte ero cegato Io non ce la faccio più Toglietemi sta maledizione Ho capito che sono asceso Ma non vuol dire essere l'impostore sempre Axel Mi hai messo tu lo scudo, vero? No, ero l'ingegnere L'altro ha messo il termessio L'ho messo io Raga Il link per scaricare la mod Ve lo lascio A fine stream Sul Discord Un niche E di proteggere il Borrage Dai Silente Dai Albus fammi se deronate Ma va bene Dai Ciao Ciao Sarebbe 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 Adesso Sono tornato a giocare io Ciao Albus Sono Gandalf Ciao Ciao Sono la legge Sparo al primo che mi capita Ah non ho cooldown Wow Interessante Come faccio a capire se una persona è stramba o meno Spawn che fa? Ma dai Mi ha safficato la tasca Maffanculo Oh non è possibile È una maledizione quella cosa Samper voleva rendermela Mi sa Prima Ma è morto Ma Ridge è una maledizione rosso? Sì Sono ancora Ah perché si ferma Si ferma gigante Ridge Non lo so Il puretato è più alto di me Che ti do di fratelli? Mi hai dato l'impostore Secondo questa colla Ovvio Allora Nova Axel E Shiba Si è suicidato Penso che si sia suicidato Mi sono suicidato Ragazzi io penso che si sia suicidato No Beh si è suicidato E' bella rendermela Avrà mica fatto l'insano gesto O l'insano self report Perché l'hai ucciso? Perché mi andava Lo focusso sempre adesso Avete visto? Mi sembra una cosine di colpa La missione di colpa Buttatelo fuori È salzato che stava fagando la task È lo shifter Solo che lo shifter non lo posso uccidere Perché? Dovrei mettere che posso Dovrei mettere che lo shifo Può uccidere anche lo shifter Che cazzo Ah ho ragione L'ha fegata la task Grazie Fabrizio di Salvatore Per il prime È lo shifter Per chi non lo sapesse È quello che ruba i ruoli Quindi O mi rubava lo shifo E diventavo io lo shifter Oppure Mi sono suicidato E adesso lo shifo Non lo sarà più nessuno Però Mi gira il cazzo Che lo shifo Non può uccidere lo shifter Mi gira Non mi piace Oh no Questo Diamante Chiave Chiave Diamante No L'altruista è un crewmate ragazzi Che può decidere di sacrificarsi Per far tornare in vita una persona Chiaramente quella persona Sa che è l'impostore E quindi potrebbe essere Sgravata come cosa Però Per resuscitare Ci impiega 10 secondi Non è una cosa rapida 10 secondi di caricamento Per resuscitare una persona Attenzione E' morto Rage E' il campo Irax Chi è il nero Che è morto Dove Qua Chi è quello di colore nero Rage E perché Rage non si smuta Perché Rage Quello gigante Non può smutarsi Ah ok No E' morto il gigante Grazie per avermi rivelato Che eri tu Rage E' morto Alle comms Vi posso dire Che non è stato spawn A ucciderlo Perché abbiamo fatto Il tratto insieme Ok allora ti posso dire Anche che non è stato cocco Io ti posso dire Che non è stato Axel Siamo con un triangolo Di patto di ferro Il triangolo Non l'ho considerato Il ferro va benissimo Poi ma Che non stiamo parlando Spawn si è veramente bravo A trovare i cadavri Si ma Dado non c'entra nulla Spawn te lo posso assicurare Non è buono Va bene Va bene Samu Dado sei il gesto Devo farti buttare fuori Io Chi lo so Maybe Io ero dove c'è la pedana Volante Non conosco la mappa Mi spiace No però ho visto passare uno Quando c'era una Recoms Disabilitate E come hai fatto a passare Se la pedana era Dall'altro lato Perché arrivavo dal tuo stesso punto Non conosco la mappa Ma io da lì Vedevo soltanto Che si poteva arrivare Con la botola E dubbi Amletici delle pedane Ti posso dire Che io sono safe Ti posso dire Che io Ho un eco E perché ti ho proprio votato Ti posso dire Che io non so Ah non ti credo Ma Silente Vai via Per fammi un attimo Ragazzi Una volta che sono morto No Vi piace vedere I ruoli Le persone O forse spoilerà troppo E non vi gusta Perché è utile per capire Chi è chi e chi e chi Però magari Nessuno segue Magari Uno vuol scoprire Chi sono gli impostori Senza Oh no Devo passare la mod Devo passare la mod K Comunque vi ricordo Che con Amazon Prime L'abbonamento È gratuito Dopo togliamo il gigante Togliamo lo shifter Perché mi ha rotto il cazzo Grazie Davide Senza cognome Per il Prime Gentilissimo Mister Liam Per i 5 sub gift Eh sì Quello Com'è Rubino Chiave Chiave Diamante Grazie Braca Ligabri Per i 10 Hello Io Sinceramente Volevo chiamare il bottone All'inizio Perché ho buggato Samu E niente Quindi sono dato Enova Domanda No Nessuna domanda È passato One for all a Samu Eh sì E lui era dentro Una botola Come era Dentro una botola Quando l'hai fatto Allora Il problema è che Io essendo ingegnere Volevo andare Ad aggiustare un attimo Dei fili che avevo visto Per capire E' successo Che mi hanno shiftato Nel mentre che Entravo nella botola Quindi io non ho più avuto Il potere di uscire Dalla botola No Quindi Io Ho scappato E rubato Porca madonna C'è rimasto Un bloccato Un'altra partita Vabbè quindi Votevamo Prima Dado O no Io non voterei Prima Dado Quando voterei Oddio cosa ho fatto Mi sono autovotato No no Prima Dado Prima Dado Prima Dado Prima no Dado non puoi prenderti Il ruolo Del Del Jester No perché Vorrei andare a incacciare In modo che facessimo pareggio Vabbè Sponzi è votato da solo Un disastro Eh ho miscleccato No Prima Dado Camper ma il computer è lo stesso Che vi ha montato Blink Sì è lo stesso Non l'abbiamo ancora Cambiato Anche se vorremmo cambiarlo Quest'anno Perché ormai Ha fatto il suo Il suo tempo Non ho capito Io all'inizio ero un crewmate Io sono crewmate Sì Io ho detto Ha fegato la task E chiaramente un impostore O un gesto Quanti crewmates c'erano all'inizio Io stavo cercando la mia task Che non ero lì Ma erano i cavi un po' più in là Qualcuno mi può spiegare Perché c'è un tizio Che mi è caduto a fianco Perché Dado a ammazzire le persone Raga Non so lo stato No Lo shift è arrivare Io e Cocco e De Cacca Ci siamo schermati Lo shift Quindi è un po' Vediamo lo shift Non lo so E togliamo anche il gigante Che forse ha rotto il cazzo Sai che la storia E di me Canto lo faccio solo io Che cazzo Dei figli E' nato da Axel A Spoon A me A Sì sì È come nella realtà no È stato come un po' Io ce l'avevo Di la task da fare Solo che da shift Non puoi fare le task Perché devi shiftarti il ruolo Prima No perché hai le task Fakate Quante probabilità c'erano Che io Grazie Dada Per i due Shiftare su un impostore Attualmente mi sono un po' Sbilanciato Questo Beh Te l'avevamo detto Che la Dada Era l'unico Che Non era Sono veloci Io sono alto nella massa Che credo Mi ha dato troppi alibi Lo shift Sì è un po' Troppo forte Ma mettiamo anche Il Drunk No 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 Per favore No Mi dì il Drunk Mi costo gigante Che ubriaco E il ButtonBurry Che cazzo eh Mi chiamare le emergenze Senza il bottone Non è bello Spawn Ma che cosa fai Qui insieme a me Sono un 50-50 Metti per il Drunk e Giant Metti per un 5% su Drunk e Giant A questo punto Per dire No 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 È probabile che il Giant Divento io Lasciami per 5% Solo da stanotte E basta Ragazzi Io so già Che sarò spia di nuovo Quindi Shiban Oh questo è carino Se una persona Prova Ad attaccare Che è shieldato Il medico lo sa Solo il medico Solo il medico No era Liban Shibaun Liban Shibaun Shilvia No è Shilvia Ragazzi Commentate tutti i vostri punti Su vittoria impostori Così li resettiamo dai Grazie LKI Heaven Per il Prime Ben Ben Per i 13 Scusa Bentornato Spia Ma cazzo stanno i ballini In sta mappa Non li ho mai usati In sta mappa I ballini No Oh shit Dove stanno ragazzi Non mi ricordo Cockpit Ok C'è cocco Andiamo in cockpit Che ha botolato qui Il nero che botola Il nero botola Credo Ci sono due viola Anche il giallo ha botolato Il giallo ha botolato E c'erano due viola Qualcuno dovrà dare spiegazioni No Chi è che ha riportato Chi è che ha riportato Io ho riportato il cocco Campio era ritrollato Stavo per rianimare un corpo Ah ok Comunque Ci da dire una cosa Ho visto giallo botolare Ed è morto Ed è morto Quindi forse era l'ingegnere Mi ha sparato Axel Ero io l'ingegnere Ah ok Stavo anche per dire che sì Ho visto anche il nero botolare Quindi E poi ho visto due viola E Shiba è morta Ero io Ero io Ero io Ero il problema Shiba Stavo per riportarlo Cioè stai In elettrico Io sto costruendo un po' un po' un po' così Eh Vabbè ragazzi Lo sai che non mi ha ammazzate Io provo il nuovo ruolo Sì Grazie Arrivederci Il cadavere 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 Era in elettrica Davanti a cocco Ok A me se lo dispiace Per il cadavere Perché col fatto Di saltare le gom Stavo spammando Report Ho premuto Chi Ah Ah Mogus E io ero sopra Tranquillo A fare la task Ma vabbè ma vabbè ti io volevo Se tu non puoi portarlo Eh perché Non puoi fare self Se tu uccidi uno Non puoi fare self Fine Sponiamo in cucina Andiamo a cockpit Quindi cocco è l'altro list Dovremmo diminuire il tempo Ah ma quante porte chiuse ci sono Non mi ricorderò mai i colori Marrone in security Andrà in kitchen E a prendermi sicuro In armory Spero che non venga da me E qua E niente E niente E Axel Ah ma Axel è buono E lo sceriffo Il verde è nero L'arancione Giacomo Rage a botolato Da main hall L'elettrica Giacomo e spawn Giacomo in medical Spawn in main hall Giacomo Che fa l'arancione? Ok l'arancione è vivo Bridge Engine room Kitchen Security Eletrica Entra qui Fuck Grazie Nico Finalmente siamo vicini a un anno Un anno di noi È minore 3 È successo che Axel Axel voleva sparare a me Ma è successo un misfatto Che è morto lui però Non lo sapremo mai Io sto cercando il cadavere da 20 minuti Ti giuro che mi ha sparato Che è morto? Axel È morto da spawn davanti ai miei occhi Due persone sono morti Io ho riportato Axel Sì perché uno era lo sceriffo E l'altro è lo sceriffo Ma che è sparato Axel? C'eravamo io e Cocco E non lo sapessero sparato E chi era l'altro? Se siamo riportato Axel O Giacomo o Camper Perché sono io? Che ho fatto la call di prima Cioè raga Allora o te O sapevo i colori dei pallini E vedi un po' O Cocco O Giacomo Ti posso dire che io sono l'altruista Occhiolino Ti posso dire che Giacomo Mi ha fecato una task davanti Quindi Ma non c'è la barra verde? Fuori Giacomo dai Sì Non ho fatto una task Ma la barra verde sì C'è la barra verde Non ho fatto una task in quattro game C'è un problema Ciglia Ma qua c'è la barra verde Certo c'è la barra verde E noi dobbiamo dire che mi fecchi i patti Non capisco Mi ha fecato In davanti davanti No? Tutto fomentato Tranquillo Io ho detto Vabbè magari Jester No erano Jester Samu Crewmate Perché eri Crewmate? Sì ero Crewmate Ero Crewmate Ecco C'è uno o due Crewmate Anche due? Non mi chiedere perché No 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 Io mi sono chiedi Ragazzi Antonio Magro per i cinque Bentornato C'è anche K Oh Ma è K Scappa Ma il Lo snitch Si Si Scopri gli impostori Quando ha finito le task Ma gli impostori Sarà una task prima Che lui lo snitch Quindi tu dovresti tenerti la task Più vicino al bottone Per ultimo Io ti ho grottato Tenersi l'ultima task Su un ponte In mezzo all'aria È molto in una macchina Così è un po' È mutato Ma come è questo qua Chi lascia il posto a K Ma se siete già dieci Giocate voi Non ti preoccupare Ok Non ti preoccupate Ok Ma signor K Tranquillo K Adesso facciamo tiltare qualcuno Sparo a Dado Se il killer sparo comunque a Dado C'è la barra verde o no? Sì sì c'è la barra verde Non farlo Super Posso diventare invisibile Ci mettiamo qui Ah no La spia potrebbe vedermi Devo diventare invisibile In un corridoio Tipo qua Non ho preso a nessuno Sul serio? Nessuna in telecamera Che cazzo? Ho sprecato potere L'invisibilità così Holy shit No Da che parte arriva? Oh no Abbiamo L'avvert crash course Teoricamente un arriva Non mi vede E le porta no? Non mi roma il muro Non può vedermi Swoosh Sono invisibile No da questa parte L'altra Ci mettiamo a vitals 10 secondi di cooldown 7 6 5 4 3 2 1 Posso killare Beckerò mai qualcuno adesso? E dai Ciao Rage Dove? Pronto? Elettrico Lo sapevo Mamma mia Ma Spawn Perché ti ho visto 6 volte? Che senso? Forse perché qualcuno è Morphling Qualcuno è Morphling? Allora Io avevo Rage che mi rincorreva Sono scappato Ho incrociato Giacomo E Giacomo L'ha riportato Magari Giacomo Mentre ci siamo incrociati Giacomo Cos'è che ha riportato Giacomo? Elettrico C'erano due pallini Elettrico Aspetta ma il colore Non era quello di dire Giacomo ha riportato Ha riportato un altro Era Era Michelle Era Michelle Ah Ma io l'ho visto da Admin Che c'era un morto In elettrico Io vi posso dire Che Nova è safe Per tutto il game Cosa ero? Dove eri adesso? Salito le scale di Elettrico Cocco usciva Dove dove si era il corpo però Della scala Della cockpit Non c'ho visto io il corpo Sulle scale di Elettrico Era appena salito Verso le docce Eh Il corpo si è trovato L'Elettrico Eh No Ma era già morto Tocanto ragazzi Non può essere stato accesso Non è I don't know I don't know Comunque Andrea Potresti per fuori Rifare le cose bene Che fan cagare Ma la barra verde Secondo me è necessaria A me non piace Non è la barra verde È anche un'altra cosa Che dopo ti dico E quale? Però finiamo ti dico Noi mi son bloccato Ma che significa? Oh si è sbloccato Ma pensa te Pure il cooldown Si era bloccato Oddio merda Ai 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 Grazie sassetto Per l'abbonamento Ho perso Dei secondi Dei secondi Importanti Ho perso Dei secondi Importantissimi Per il cooldown Perché mi si è frizzato Il gioco Only shit Only shit E niente Diamo insieme Una mossa Qui incrociamo cocco Cocco non gli diciamo niente Lo lasciamo in vita Voglio prendere qualcuno Prendere qualcuno Dai qualcuno Parapapapapapapapapam Grazie Axel Volevo farlo io E chiudi sta porta del bagno Perché non si chiude la porta del bagno Un po' di privacy Holy shit Holy pepperoni Oh Oh Una fa killare Andrea ma perché è così facile sto gioco Non lo so Axel I don't know my friend A me è calata la corrente sul pc Hai crashato rage Sì Mi ha buttato Ok ma non me l'ho manco accorto Il killer ti ammazzo per primo Domanda Cos'è che devo cambiare Giacomo Allora executioner non diventa crewmate Ma jester E Togliamo l'executioner Vax No no L'executioner è ok Ma Non so Se vuoi è più divertente il jester Come ruolo Jester è assolutamente Sono un ruolo più divertente L'executioner dopo diventa il jester Esatto Comunque prego ragazzi in chat Tutti i punti che vi abbiamo regalato io Andrea E te la togli anche la barra verde Va bene Beh a sto punto prego anche a noi che siamo morti Perché comunque Se no Allora Ma 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 io ho fatto il crewmate Come cazzo Non ho mai C'è anche un crewmate Che non c'entra niente Letteramente mezzo la mappa commons A caso Ah ok Perché prima ce n'erano due Mi ero buggato Nova Non mi muovivo Però con la scusa ti ho samplato Appena si è avvicinato No Ho detto vabbè impostore Non ho capito No no Mi ero buggato comunque direttamente Io sto sperando di essere lo snitch La barra verde Io non la metterei Ok Secondo me non fa Io sto guardando male La mappa è bella grande Io non la guardo Perché secondo me è troppo forte guardarla Quindi Grazie 13 Mario per i 10 E grazie Mr Liam per La sub gift Gentilissimo Sono un altruista Posso risuscitare i cadaveri A costo della mia vita Dove va Rage? Dove va Rage? Dove vai? Vabbè Eh facciamo sta task di merda Oh no Dove è andato Rage? Ah volato via Hai volato via Rage? Bisogna Dove ho trovato i cadaveri Devo sacrificare la mia vita Per Il crewmate Che palla sto ruolo E dai Non c'è sta nessuno Di morto E' che botola? Spoon sarà l'ingegnere O sarà il miner? Chi lo sa? Troverò un morto? No Sì Hanno provato a stabbarti Molteplici volte? Sì Mi hai perso il flashetto negli occhi Io penso che Shiba sia La miner O spone l'ingegnere O espone il miner No vi spiego Vi spiego Allora Ho incrociato Shiba A uscire dalla stanza a sinistra dei bagni E poi salto nei bagni Ho visto che c'era Una botola in primo bagno Ho visto anche quella botola Fuori Shiba Aspetta Non era questa botola L'ha messa lei Cioè l'ha messa lei Ma non l'ha messa lei Molto diretta Ok Entro in quella botola E non porto da nessuna parte Allora dico Sto in questa botola Finché non mi porterà da qualche altra parte Dopo un po' entro E posso andare in cucina Esco dalla cucina E vedo Shiba un'altra volta Ok Basta Fuori Shiba Fuori Shiba Fuori Shiba Bravo 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 Ma sei sicurissimo? Wow Cioè è possibile Domanda Ma magari il colore era simile A quello mio Quindi è nuova Non è Axel La spawn Fermi Spawn Ti sei avvicinata Shiba? Ti sei avvicinata? No Che mi hanno parla da spattavare Sono Andrea e Axel Probabilmente Allora Uno di due è assassino Perché c'è altro scudo Mi so No Non credo Axel Per questo punto Mi hai fatto Grazie Rick Per il ride Grazie mille Mi sono cagato addosso Ho detto Vabbè Ciao Fieric Quanto tempo Allora l'altra spaziale di spawn Che può botolare Perché è l'ingegnere Stai allo Joint chat Ok Allora smetto di parlare Con la remosce Lo giuro Ma io dovrei fare le tasche Se tanto il mio scopo È sacrificarmi Porco Sì Axel Non è molto carino Ammazzare Il rage davanti Alla porta Se tu mi fai questa accusa Io penso Tu sei il killer Il brutto figlio Di puttana Io penso che Rage fosse lo sceriffo E che per qualche Cazzo motivo Abbia deciso Di spararsi in testa Sì perché ci sono 40 secondi Di cool down Per gli impostori Quindi è difficile Non è È volato lo sceriffo Che ti ha sparato Axel Sì perché c'era Anche da fianco a me C'era la porta chiusa Dall'altro lato Chi c'era È difficile Che potesse essere L'impostore L'impostore Hanno 40 secondi Di cool down Era lo sceriffo Rage probabilmente Ha sparato a Uno di loro due Vabbè l'altro è morto Per un assassino Però L'altro chi L'altro chi No scivai Vabbè hanno cacciato a noi Giovanni Buongiorno E Samu Davide è morto Il round di prima Ah era anche già morto Ammongous Non ho ancora dei dubbi Sui kill Sapevo solo che Giovanni Ha identificato come Come ingegnere Che Dato Ha stabato su Dato Non su di me A dirla tutta Quindi penso Dato Si è buono Dato Dai Dato Non è difficile da capire Rage La luce li fa sparata Uno di voi due Sì 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 Va bene Va bene Ma è più che altro Sono i 40 secondi È che Dato ha un i3 Di prima generazione Sì lo so Ho un i3 di prima generazione Vabbè Sono Sono C'è la qualità Di prima generazione Sono Sono Google E Il ruolo è l'altro Ist Il ruolo è merda In sostanza Ho il potere di Risuscitare un cadavere Ma A costo Di morire Cioè Risuscito 8 secondi Di cooldown Per risuscitare E dopo muoio io E risuscito il morto Che Sa Chi l'ha ucciso Oh no Vabbè andiamo a fare Dusk La mod Concludi questi ruoli Ve la lascio Sul discord A fine live Grazie Steve Per la sub gift E risuscita Non posso Devo trovare il cadavere Bagni Dove Oddio Ma una mod Che ascoli sub Il posto a sinistra Del 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 Ah brig 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 Ok Dov'è Quindi In teoria non può essere Axel In teoria Dov'è il posto Sai Dove si spawna All'inizio Quello che vai a destra C'ha È il forno penso È A sinistra C'hai Il Diamantone Perché io ero in cucina E Axel è andato D'essere della cucina Allora posso dirvi Che ero ai pallini Ho visto lo sfarfallio E uno andare a destra Non so chi fosse Io ti posso dire Io ti posso dire Spawn è ingegnere Sì sì Questo lo so Nova è il medico Perché è stato Lo scudo a Spawn Cocco è stato Commesso round Quindi o sei tu O è camper Se Nova mi ha detto Il primo round Che hanno provato A stabarmi Sì Io sono passato Attraverso Andrea E Axel Penso E basta Dopo aver preso Lo scudo Se vuoi Posso provare Che sono buono Però uno Tra camper E perché è proprio camper E perché è proprio camper Ma Porco cane Ma Ragazzi Perché ci sono sette voti Siamo in sei C'è anche Il sindaco C'è il sindaco Ma c'è anche il sindaco Ah ho messo il sindaco C'è il sindaco Di proprietà Grazie Richard Cyper Per i 13 mesi Un Among Us Con i sub Io mi fido poco Di sub Nei video Perché è un attimo Che partono Le parole bannabili Però Beh Samu Shiba E Cocco Sono sub E anche rage Eh Mi piace questa risposta Un impostore Può essere sindaco No Sindaco è un ruolo La crewmate Ah Sono morto Perché Ah Il tiebreaker Non era camper A quanto pare C'è il sindaco No Perché ero io il sindaco Però c'avevo anche il tiebreaker Il problema è che Io ho votato Giacomo Non Andrea Eh ma se c'erano Tre voti di skip I tre voti di skip Fanno skippare Penso Non c'era Ma io ho votato Giacomo Ah no Erano tre su Giacomo C'è su Andrea E uno skip Vabbè Vodiamo Giacomo Giacomo Ma perché è proprio Un self report Report Reportato Mi hanno portato Il bottone Mi hanno portato Sì Sì Mi hanno portato Axel Io il Svone Abbiamo ammazzato Il bottone No Povero bottone Ha missione di colpa È vinto Marco Grazie Susi Pei dodici Sì Tolgo il tiebreaker Perché mi rompe il cazzo Perché ha buttato fuori C'è il tiebreaker Il tiebreaker A rompere Ah ok Due ce n'erano Ah io ero altruista Ho paura Mi dà te due secondi Buon goccino d'acqua Tu pensa che anche Perché io devo buttarti fuori Ah Pezzo di bravo E tu è come è venuto a spararmi O è stato a kippa allora Io Ok non ti ho visto Ammogul Vabbè ho tolto tiebreaker Perché è buggato Sassi Prima o poi troveremo tutti Lui che sono buggato Giocheremo normale Così dice lui Anche Giacomo dice di esserlo Sì io ero Grazie Martina per i sei Spawniamo a Carco Bay Carco Bay Sono ingegnere Quindi posso botolare E una volta partita Posso risolvere una crisi Premendo un bottone Non male Eh Si botola Ma Ok È Axel il miner Devo sperare di non morire E andare a chiamare L'emergenza C'è una botola qui Buono 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 Eh Sì Signori Signori Ho un annuncio da fare Credo di sapere Chi è il miner Az E che lo sia Ma non siete riusciti insieme Siete riusciti dopo Siete arrivati dopo Quando vi sono sboccato davanti Ma io ho fatto un bel po' di giri Con le botole in realtà Poi ci siamo rivisti dopo un bel po' di tempo Capito Ma quando mi è incrociato Il momento in cui Abbiamo incrociato Axel e Shiba In quella stanza lì Sì ma era passato già Era passato già tanto tempo Nel senso che ha votato la botola prima Ah Compriti posso dire che uno Ti dico un'altra cosa Sono stato sul corpo di Michelle Che è stata FK tutto inizionato Oh raga raga un attimo Perché io Mi ha detto che ho votato Senza che avevo ancora votato Non so se potevo dirlo Non lo so Ci stanno tracciando Stacca stacca Ti dico che è Giacomo Prima è uno Avete Cocco il sindaco Avete voti Giacomo? Oppure Cocco più l'impostore Sono Axel e Shiba Secondo me Che merda Oh lo scudo Chi me l'ha dato? Shiba? Mi ha dato lo scudo a Shiba? Adesso pedino Axel Ciao Axel Ti pedino Cosa vuoi fare Axel? Cosa vuoi fare? Vuoi Vuoi killarmi eh? Vuoi killarmi Axel? Non puoi Non puoi killarmi Sono fucking Immortale Che dove lo scudo mi ha dato Shiba Quindi è il medico Ma il signor Axel Secondo me è proprio un impostore È proprio un fottuto impostore Ma sono immortale Dove? E perché proprio Axel? Eh no Stop Stop Shiba Per caso hai visto qualcosa? E allora è Axel Che provava a killarmi Ma non ci riusciva Signori miei Diciamo Non l'hai notato Dal fatto che Io abbia messo la botola Sotto i piedi E abbia provato a scappare No Non ho visto la botola Però vabbè Comunque Sono Axel E vabbè raga Stavo sconcentrato Tanto sapevo che era Axel E raga Cioè su via Amogus Amogus Quello che ho visto Da pallini È molto Amogus Eh sì Sono morto Ah col fatta Axel preso E mo' è tempo di beccare L'altro impostove Che bello Come sei mortali Con lo scuro Si cazzo Sono immortale Non posso Movere Reggio È la spia C'è sta qui C'è qualcuno qua Che fine ha fatto Dove sta Dove sta Cocco Nuova le telecamere Che sono Erano spente Le telecamere Grazie Gabriele Per il Prime C'è una botola Qui fuori No E ancora non conosco bene I posti In cui stanno le botole In questa mappa nuova Qui sicuramente C'è una botola Ma no Si Eh no No rage Scusami Natto Io ho lasciato Giacomo Con Shiba Penso che Nova Sia il gesto No no Mi si è appena Trasformato davanti Esatto Nella mia visione Sono morto io Vabbè Non ti Io Io voto Giacomo Comunque Erano insieme Ok Però io voto Nova Rage Hai tradito un fratello Potevi startene zitto Mannaggia miseria Rage E' uscito Giacomo Ragazzi Ragazzi Come è uscito Giacomo Ragazzi Sapete votare C'ho appena vinto C'è non sapete votare Ho letteralmente votato Cocco Quattro volte Camper Che ha votato Giacomo Scusate Io lì un posto Ero il meglio Ho votato Cocco Quattro volte Mi sa che hai votato solo una volta Perché abbiamo fatto in fretta Che sfiga Report Mi si trasforma in personaggio Mi nascondo Però Ti ho visto dai pallini Non avevi scampo Grazie Senoff per i 13 La parte gaming dello studio Uff Ancora in alto mare Che potevo ucciderti L'ho fatto prima che arrivasse il cooldown No Io ci ho provato prima E non riuscivo Mannaggia miseria Io l'ho fatto prima E l'ho preso là Se metti il sindaco al 70 E lo swapper al 5 C'è il 25% Che c'è un crewmate In più Ma va Prima ero crewmate normale Ma capitava sempre Crewmate normale Eh perché sono 7 Ma prima erano anche 10 ruoli No no Di nuovo ingegnere Perché penso che Sarò il primo a morire La invisibile rage Sì Allora Tripla Lo vuol dire Sono in main hall E ho visto il corpo di cocco e di nuova Cadere a terra contemporaneamente Non ho capito Io Allora io credo che qualcuno abbia arrivato qualcuno Ma non abbia fatto il tema a farlo spawnare Esatto Io ho dei dubbi Perché ho visto un colore Ma non mi ricordo il colore Perché tanto per me i tre colori della gente viva sono uguali Però io Però il problema è che ce ne sono 7 di colore Eh appunto Il fatto è che il colore Mi sembrava o il mio O quello dei rage O quello di Giovanni Uno di questi Sono molto identici Sì perché anche io stavo in main hall Avevo appena visto Le camper uscire da sinistra E stava posandogli a k E salire Non so se Boh non mi dico il cazzo ho visto Rage Giovanni Beh Con me e niente Giacomo non ti ho visto Mi hai visto in main hall Se sei passato in Ok in main hall è lungo sì Però sto cercando di capicchie Ho visto appena Boh vabbè mi voto da solo Ciao Ma Andrea poi Mentito Mentiroso Mentitore Non si è votato Sarà mica uno stronzo Facile Allora No Cosa è successo scusate Cosa è successo Cosa è successo No ma c'è stato un problema di calcolo Cioè Hai sparato a me Io ti ho animato Sì ma Simo ha riportato subito Devi aspettare 10 secondi Dopo che clicchere vai E' stato davvero divertente Grazie Sabri Gatta per il Prime L'esecutore in sostanza Ha il compito di buttare fuori una persona Se succede Vince Vince solamente lui E se per caso Il suo obiettivo Viene ucciso Diventa un jester Diventa un giullare Ah mi ho chiuso poi Che se lo dici È un amato suicidio Come è nato il meme Del serve Di Inghilterra Con Scott Perché mi si era bloccato Il personaggino Devi fare la rotella E basta E io ho fatto la rotella Al posto di schiacciare A vuoto Così mi si toglieva la cosa E sono proprio finito Non stavo guardando bene E so Vabbè mi sentrò al pazzesco Ciao Aho Rage ha appena sgozzato Michelle A destra della cassaforte L'ho visto Dei puntini Di admin Perché sono apparti due neri Io ho visto Rage Apparirmi a caso Mi sono fermato L'ho guardato Chapter Ruffin Like a smoke clean Poi io ho visto Ho detto Puff Ho detto Porca puttana Ho detto Ma il cadavere Dove cazzo è Eh io sono il meglio Raga Aspetta raga Ho fatto Un voto di Stinto Non ho ragionato Ah Accidenti Giovanni Ma cosa combini Ma se Rage era doppio Non era il cattivo Chapter Ruffin Like a smoke clean Quando è che stiamo usando Queste mode Ho un dubbio Sull'ultimo Credo solo Non sia già L'ho due mesi Grazie Gabbo Ti mutati Quelli vivi Boh Ah spero di sì Rage Scade non viene live Perché gli fa schifare Mon gas Convincerlo È difficilato Certo Dupita No ma mi insegue Io gli sparo Lui mi revive Cazzo E poi E hanno riportato Dopo due Non capisco Non fa le kill L'altro Vabbè Ok Abbiamo fatto Di kill E' l'altro Mi ricordo Hanno vinto Gli assassini No Perché l'altro Non ha fatto L'ultima kill Cioè bastava Una kill Bastava Comunque Devo buttare fuori Giacomo Che mi stavo Seguendo da 20 minuti Però era il medico Quindi probabilmente Volevo darmi uno shield Non l'ha ucciso Non capisco Chi è l'altro Eh Sam Io ho appena letto Rage Sarò il primo a morire Pam Stabbato da Rage Vabbè Il primo a morire Sono stato io Se proprio vogliamo Metterla Ok Il secondo è nova Il secondo io Sono stato Grazie Ares Onizuka Per il prime Oddio Ha vinto No non ha vinto Lei fa tutto il giro Grazie Vinces 98 Grazie per portare sempre Contenuti divertenti Con i controcoglioni Grazie a voi Grazie a voi per il supporto Che due porte Che sia mai Ok Sta andando Dai Giacomo Non sa che ha già visto Eh Eh Vabbè Samu Eh Già come tu sei il medico Eh Sì ma voglio solo sapere Come ti ho dato lo scudo Non lo so neanch'io Vabbè Samu comunque Prima potevi farla una kill Amo vinto Per ide Per ide Così per goliardia una kill Raga No Ma no Accidenti No Intatta Raga Raga Era Axel Cosa Cosa Giacomo Cioè quando ho dato il crashato Ho detto a posto È fatta No io comunque Non ci sto capendo un cazzo Stamato veramente Dovete stare attento a mille cose Vogliamo mettere bonus Voglio sticare perché sei uscito Secondo me questa Felice Comunque Ok Già lo impariamo E tolgo le segure Mi piace tanto fare il gesture E non capito mai il gesture Eh Io devo buttare fuori Giacomo E tu mi stavi seguendo per 20 minuti Per cosa Giacomo Io non ho capito una cosa Come mi è arrivato il tuo shifter Non lo so Non lo so Grazie dannato per i prime Grazie Ero Nesto Tu No Ero Nesto Tu No Non so come Eron Est O tu No Non so ragazzi Non so leggere questo nome Ero onesto tu No Grazie mille per il prime Ero onesto tu No Ah ok Non riusciva A leggere il nome Lo potevo usare bene però Ma può capitare Questo non ora Può capitare Può capitare Può capitare Una cosa che può succedere Diciamo Non può capitare però Swapper al 5% Vuoi proprio rischiare Cioè se adesso mi scelgo Swapper flash Io quitto Sarà anche prima lo swapper Ma dai Il sindaco Il sindaco Che ruolo Di Merda Voglio morire per primo Voglio morire per primo Sparatemi in fronte Poi il sindaco Che raccoglie gli stracci Si è mai visto raga Uno fa carriera in politica E raccoglie gli stracci Ma pensa a te Dai stabami Giacomo Stabami stab No non mi stabi Mannaggia Mannaggia E niente Dove? Chiedo scusa Non so Se volevi fare qualcosa È vicino Sulle scale di meeting E c'era No Ok No Ma perché hai brato Shiba? Non lo so Stavamo a guardarci In faccia No ma perché stavi a guardare Quel cadavere? Perché si è ammazzata solo Ok Mi ha sparato Allora Devi reportarlo subito Magari era lo swooper Può anche essere lo swooper Non ho capito molto No si è ammazzata solo E ignoravo il report Perché è inutile No dovevi reportarlo Perché magari era lo swooper C'è 10 secondi Potrebbe essere lo swooper No ma era in un posto In cui non ci va Lo swooper da invisibile Eh per forza Ci esistono quei posti Che proprio Non ci va Perché diventi visibile Diventi le scale Rimani su inchiodato Non ci dobbiamo andare Che significa Abstain Ti astieni dal voto E te lo incameri Perché sono il sindaco Il sindaco può tenersi Voti da parte E usarli tutti Quando vuole Eh il sindaco Eh il sindaco che paglia L'immondizia Ma che sindaco Fallito ragazzi Tutti sti compiti Eh che era dado No da capo Da capo Sono il sindaco Sono il sindaco più povero D'Italia No ma ha inculato la cosa Pezzo di merda Cliccato prima di lui Tocca fare pure L'idraulico Adesso Guarda te Guarda te Pure l'idraulico Devo fare Comunque si La live Forse la ricarichiamo Sua newbie live E soprattutto O spawn La mod Ve la lascio A fine live Sul discord Camper Sono da sette anni Che vi sei Grazie salvatore Grazie di farci ridere Ho trovato il cadavere Di Axel In cockpit Ok Nova ti è Fliccato lo schermo Ho acceso comms E sono da sinistra Allora Io Ho appena incrociato Cioè Incrociato Spawn e camper Camper stava andando Verso Sinistra Spawn è andato Verso il su Quindi non so se Spawn è arrivata Da sinistra Ma camper è chiudata una stanza Con una botola Ah Gambur Che fai Signor Gambur Ma Nova Perché hai dato lo scudo Da spawn Perché non dovevo O perché hai fatto una cosa a caso O perché aveva un senso logico Perché mi sembra abbastanza safe Ah ti sembra Ok Eeeh Vabbè Uno dallo scudo Al Jester Ma pensa te Popi Popi Jester Mi è uscito da una botola Ingegnere Che è uscito da una cazzo di botola Chi è ingegnere Tu Sei appena uscito da una cazzo di botola Non ho avuto fortuna Tanto per cambiare Lo scudo gli ho botolato davanti Giacomo non mutarti Tranquillo bro Ho avuto No 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 Cosa è successo Vabbè ho sprecato solamente un voto Volevo votare tre volte dado E non ce l'ho affatto Ho sprecato solo un voto Minca ho pensato di morire raga E mi stavo idratando E ho perso la votazione Beh tre voti ce l'ho per dopo No Nova è il medico Espone l'ingegnere Io sono il sindaco Rimangono dado e quell'altro Dado e cocco rimangono Pustivo Ci vediamo la botola cocco Tutti che mi votano Tutti che sospettano di me Oh c'è Rage Dice che dovrebbe essere buono C'è Nova che è il medico Spawn che è l'ingegnere Ma potrebbe essere il morfling No è quello spawn vero dai Ah ci sono le cams disabilitate Ma i fantasmi Perché non risolvono le goms Mortacci loro Oh fantasmi risolvete le goms Mortacci vostra Non si può più Come non si può più Come non si può più Cos'era un bug Se fosse una cosa figa di questa mappa Invece no Era un bug a quanto vale Non era una cosa voluta Bisogna andare a salvare le goms Che noia Ma? E perché è proprio cocco Che mi deve stare a bale Cocco Sentite? Dica Cocco è lo swooper Io credo che lei stia mentendo Vuoi vedere come i miei tre voti Dicono che ho ragione Invece Io ho visto voi sotto Sono passati Sono passato attraverso voi Tre voti a cocco Io ho visto due nuova Raga Io ho visto un nuova implodermi di fronte a me Quindi c'è uno swooper Ma cocco in quel frangente Non è spawn Raga fidatevi Camper il cazzo di gest Tra l'altro che Prima di Ho appena fatto tre voti a cocco Vedi un po' Come sono i gest Prima Eh sì Prima Prima di chiamare le goms Io ho visto un nuova in cucina E poi ho trovato un nuova con Andrea Le telecamere No raga Dato il cocco sui due impostori Fuori cocco Io voto do camper Beh chiaro Ma come arrivano tre voti a cocco Ah un po' chi è il sindaco Oh com'è che i morti votano Com'è che i morti votano Dato Io ho votato due morti dei camper Quindi non lo so Com'è che i morti votano Dato Grazie Grazie 2pixel Per i tre The matte Gamertr8 Grazie Per i 12 Un anno E grazie Anna per il prime Com'è che i morti votano Ragazzi Com'è che i morti votano Oh 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 Ciao cocco Dammi un saluto Cocco Oh Oh sette secondi Di cooldown No Non me lo dire Così E ora facciamo volare Dato E chiudiamo sto game Ma quindi Questo votino sul dado Questo voletto al dado Lo vogliamo fare? Perché ridete Perché mi ha chiuso il cockpit E mi guardava storto Vabbè Tanto so il gesture Ma è inutile No shit Ti ho votato No è inutile Mi ha votato Mi ha votato Mi ha votato Bravi 1 I morti non possono risolvere i goms Sì sì Lo sappiamo 2 Mi ha fatto molto ridere Il fatto che Giacomo abbia dato la sua vita Per salvarmi Arriva l'altro impostore E mi sgozza Appena so ridere Giacomo entra Muori dal nulla Dico aspetta Bellissima la scena Mi ha ammazzatato Giacomo che mi aveva visto Corri Mi rianima bro Mi bastava reportare Cocco I got you E rispondo Arriva Cocco Pam colpo in testa Cocco No gioco Ho girato per 30-40 secondi Alla ricerca di un tizio Ho trovato sempre Lo stesso tizio Con lo scudo No gioco Ma quanto ho rischiato Di volare fuori prima Perché sei uscito Da una stanza Con le botole Che ne so Ho manco visto La botola io Ti devo dire In quella stanza C'è una mezza Non l'ho vista Ti devo dire Magari L'hanno messa in quel frangente L'hanno usata Che ne sappiamo No no Non c'era No Ti era super Era Cocco Lo super Ho visto Io ero a fanculo Io ero a fanculo Sempre da solo C'era il morfing o no? Oh ingegnere Oggi ruoli divertenti Manco uno Perché è andato Un secondo button A poldo Perché Mi è piaciuta La storia nostra E' piaciuta La storia nostra E mi ha detto Oh ma sai che c'è Io quasi quasi Richiediamo un altro button Perché siete impegnati Penso un po' E poi Per il sederino Siete impegnati Quindi Quindi quasi quasi Richiediamo un altro button Ma 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 che cazzo Samu e Giacomo Io li inseguo Perché secondo me Pesco Un Fix Ma Dato Da dove è sbucato Giorno Allora Vi posso dare un'informazione Stop 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 Tu Dato Eri reale Cosa vuoi dire Eri reale Eri reale Eri tu Eri reale Sì Samu e Giacomo Li hai visti Entrare Tutti e due Da te Li hai incrociati No Sì Non lo so Non credo Io non credo di essere arrivati ai Vytars In realtà Cioè devi capire Che io Dalla botola Ho visto andare verso Mi chiamo Mad Samu e Giacomo Quindi li seguo da dietro E entrambi sono spariti E ho detto Oh Una persona si è trasformata in Dato E l'altra era invisibile Oppure Dato Deve aver incrociati Cioè Io credo Chi era con me Io non so come si era Era un Samu Siamo a Giacomo Beh Ho fatto il mio voto Beh che è proprio a me Cocco No No Samu è safe Dato è safe Io sono safe Sì Tutti safe A posto Andiamo Andiamo Sì Sì Secondo cosa sei safe Giacomo Chi votate ragazzi Scusate Schip 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 Non vogliono usare il cervello Non vogliono usare il cervello Poi dopo ti faccio svegliare io Tre che intrano Tre che intrano Tutti a tre Niente da fare Regà Se Dato non è incrociato Giacomo E E Samu Uno di tre Un impostore Uno di tre Forse due su tre E che cazzo Oh no Sto tasto non la voglio fare Vaffanculo Me ne vado Notte a chi va Ciao Shiba Io ti lascio là E non ti voglio più vedere Un momento Da qua Quanto c'è Che giro ha fatto Ah giro da qua sotto Ok Sì sì Legit Legit Eh rage Che sfiga Papapapapapapapapapapapa Eh già Ma chi era per te prima scusa Che non ho capito Uno tra Dado Giacomo E Samu Sono io l'ingegnere Quindi non si possono essere Cioè Si devono essere incrociati Beh Che dire Ho sparato in testa rage Ho sparato Axel? Ho sparato a te a rage, fine Hai passato vicino qualcuno Come ti dichiari? Sì Ho sparato a rage, fine Finita la storia Perché proprio sei l'impostore? Perché sì Perché hai sparato a rage? Perché è il primo che passo davanti Ah, è così che funziona il tuo Il sceriffo Ti ho ammazzato anche qualche round fa Appena sono spawnato come sceriffo Non ho capito questa cosa Non è una roba aggiunta Non ho capito perché prima hai incontrato me E ho incontrato Dado Prima di incontrare rage Sì, infatti stavo per spararti in Nova Appena mi sei tornato dietro Ho detto mi vede con la visione avanzata Ti stavo venendo addosso Ho visto anche Dado S'ho tirato dritto a destra Non lo so Allora, a me puzza di culo Axel, punto Non ci piove Non credo per niente Alla sua cosa dello sceriffo Ok Oppure sono Dade e Axel L'hanno provato a fare la doppia ma per lo scudo Fai tu dobbia lo scudo È un'informazione interessante E adesso E adesso Nova mi puzza ancora di più Easy Fatto che Sì Grazie Andre per 06 per il Prime Grazie per i 6 Cosa fa lo snitch? Lo snitch scopre chi è killer Quando finisce il task Detto in sostanza E Avevo ragione Joe Erano Dado il Jester E Samuil Samuil Isile Miner Siamo con tre persone Che coincidenza incredibile Che sono morto subito dopo che tu sei morto Che coincidenza incredibile Tu guarda il caso Ha sparato proprio a me Parca madoscao Mamma mia Sei gli occhi a posto Noi discutiamo dopo Dai Rage Sette Adesso ti sto stream sniperando No Acchio Grazie per i 6 No Non stream sniperare Cosa fa il miner? Il miner Mette delle bottele in giro per la mappa E niente Fa solo quello Un impostore che mette le bottele in giro per la mappa Ammazza che culo Degi Ieri avevo una freccia contro il coso Ma non era Ho passato Samu Ho aperto la porta e l'ho ammazzato Chi era l'impostore? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Erano Samu e Rage Sì Ok Divertimento Non ho fatto niente Sto game ero il meglio Siamo parlando letteralmente a caso Manco vale No Sono il miner Quindi posso piazzare le bottele Record Siamo una bottele nei bagni Chiediamo qualcuno qui giù No Non c'è nessuno qui Ma dai Dove? Ah ok Cargo bay C'era appena passato io E No ma non c'era Quindi magari È invisibile All'entrata bassa Sono sponato io Cargo bay E il corpo Non c'era Vabbè Sei sponato lì Ci credo Io posso dire Che c'era passato E non l'ho visto nessuno Axel E te mi puzzi Di caciocappella E che odore ha il caciocappella Dad Un giorno te lo spiegherò È complesso È un odore Perché sparò ad Axel dopo Ma dai Ehm Fa che dirvi Mmm Para Giovanni Para Giovanni Ha fatto self report Io stavo per andare In caro Era nei bagni Ma Axel No mi sembra averlo visto Andare verso sinistra Quando sono passato Sì ma l'avevo visto anche io Andando a sinistra Quindi probabilmente L'ho visto io Ammorfato Quindi scomperi che Self report Però mi insieme lì all'elettrico Non so Ma non Nel senso Non sei safe Brutto coglione No non mi ricordo Il codice Figa Il fatto che Dato sia vivo È moneta Rubino Smerato Dato che posso Bolognare E non poco Devo stare attento Alla spia Quindi faccio un saltino A cockpit E osservo Un po' Chi ci sta Ai pallini Chi ci starà Ai pallini Questi La spia A cockpit Può essere Parecchio fastidiosa 20 secondi Di cooldown Sì solo quelle piazzate Si collegano Tra di loro Di botole Quindi adesso Appena arriva Qua la spia La stabbo Piazzo la mina Me ne vado Nei bagni E quindi Sium Dai Vieni qua Cocco Oddio Era la spia Sicuro Sium Nei bagni Grazie Guido Guido Pe Pei Quattro Certo che il miner Può uccidere L'ho appena fatto Un altro posto Per mettere Una mina Una botola È lì Che è molto comodo Che è successo? What? Vai su Ah lo snitch Merda Lo snitch Fotti Perché non muore? Perché non muore? Allo scudo Oh shit Oh shit Allo scudo Merda Rage ti lampeggiava Allo schermo? Chi è che ti stava Stabbando? Ma Potrebbe essere Camper Facci nervoli Mannaggia Ciao Io ho trovato Il cadavere di cocco Dove? Io ho trovato Camper Nel dubbio Sì Per sicurezza C'era anche Dove l'hai trovato Il cadavere di cocco? Dove si fanno Le pissone Dove si fanno Le pistole C'erano io Io e Dadoli No Sì Cioè sotto Io ho sfruttato un'altra parte Però lì sotto Ah Rage arrivava da lì Raga Eh Accidenti Accider bolino Eh peccato che abbia detto Proprio che Camper è il killer Perché ho dato Lo shield a Shiba Sarebbe proprio Una sfortuna Sarebbe proprio Lo snitch con lo scudo Che sfiga Certo che poteva Fa qualcosa Samu Ah Poteva fa qualcosa Di più Samu Accidenti Che sfiga Non lo potevano trovare Mai Mai Il cadavere di cocco Era introvabile L'avevo anche giocata bene Ho beccato la spia Eh No vabbè Lo snitch Lo snitch Poi mette pressione Perché E che bisogna uccidere Il medico Samu Devi uccidere il medico Prima Dai Stabba Shiba Ah non puoi Devi uccidere il medico Samu Porco Dio Samu Devi uccidere il medico Devi provare a uccidere Shiba Mortacci loro Che cosa faccio Tolgo le comms Eh questa è già pronta A chiamare l'emergenza Noi Esci Occhita Tigrum No Ma come Ma come Eh Samu Eh Samu Posso così Argomentazione Argomentazione Mi nome è rosso Sono lo snitch Ho lo scudo Non mi potevo ammazzare E altra motivazione E altra motivazione È la discoteca In faccia a me Che Avevo lo schermo verde davanti Sì ma snitch medico È la combo Sì è la combo No io ero lo sceriffo Stavo cercando Ero lo sceriffo Sì Io Ragazzi io ho capirato Perché stavo cercando Axel Il cadavere di Cocco Per la bellezza di tre minuti L'imperonità Nessuno è passato in quella stanza Era il Jester In questa mappa Andiamo Cambiamo mappa Andiamo Va bene Ma Luce però non scelde con sta roba Io non riesco Io vi giuro Con l'altro list Non riesco a trovare Un cadavere Se giocassimo la seconda Così per Eh sì Dopo Per il corrigeria si può fare L'investigatore con la torcia L'investigatore con la torcia Vedo al buio Quanto lagga Sta esplodendo il gioco Solo a me lagga Devo andare a riportare il blu E raga non so voi ma me va tipo 4 fps E raga io rifaccio la lobby Sì sì Ok scusate Quindi sono Dato C'è Ciclipo è morta da 6 secondi Vuota Io esco E lì Ragazzi Ti stavo pure per dare l'ocio Admin Ed è pure mutato Che neanche mi sente Rip Che è mutato Che non ti sento Era nuova Il Tanto L'investigatore non ha mai dato problemi Stano che lo dia adesso Arrivo eh, sto aggiornando l'audio Non so se magari Non so se magari è perché ero investigatore e quindi Ah sì, l'investigatore, non lo so Ma sa anche Axel laggava L'investigatore Lo devo quindi perché c'è qualche sto bug Mettiamo la seconda, ma proviamo? No, io non laggavo con l'investigatore, laggavo e basta Ma è laggata quando abbiamo cambiato la moto E un'altra cosa Sono poche task forse per la mappa Polus Sì, e il kill cooldown Proviamo la seconda Metto anche il glitch eh? Anzi no, metto l'Arsonist Cioè sia Arsonist che Jester, va bene? Cioè Sì abbiamo quattro avversari No, c'è solo un altro roll però Ah ok, come vuoi No, sì no, sennò sono tutti cattivi Metti anche Timebreaker, Drunk e Giant Ah ah Drunk no Cosa è successo al nick, va male? Axel fa schifo essere Drunk Ma Drunk è il più divertente di tutti Fa schifo Va bene, tanto adesso è che ci farò in testa Sono l'Arsonist Metti la benzina, Shiba Ehhh Qual è la task di admin? Molato lo scudo? E' un folle E' un folle spawn Benzina messa su Axel Benzina messa su Axel Dado, mi spieghi Ho riportato io Mi spieghi Perché non hai riportato istantaneamente? Eh Dudo ho riportato Pensavo di aver riportato io Perchè Camper? Mi stavi seguendo come uno scogliattolo? Boh, perchè sapere se fossi 6 o meno Come fai a sapere se fossi 6 o meno se non c'ho la Barber? Boh, bastava Provare a killarmi Ah Dov'era morto? E' morto In caffetteria Dov'è la caffetteria? Non conosco la mappa Stanno lì di Ante Stanno lì di Admin Scusami un secondo Camper Quando tu mi hai sbirciato Che sei entrato nella stanzettina Mentre io stavo facendo le mie due task Eh, ho detto l'Axe stavo andando Esattamente Quindi Poi sei salito su Si Poi hanno chiamato il reattore Quindi sono sceso Ho detto E chi? Se non io posso andare a risolvere la crisi Visto che Spondo sa per quale motivo Io sono l'eletto che può risolvere il reattore senza soffrire Solo una volta E quindi O ha ucciso lo Swooper Hanno ucciso Cocco lo Swooper Oppure Dado che Tu dici che sei l'ingegnere Sei lì No, 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 non sono io Io sono crewmate base 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 Occhio che qua ci sono due ingegneri No raga quando ci sono due Io Hai un botolato? Io Da investigatore E pure medico E pure morto Ok Ok Che palle quando succede che si inchioda il gioco Vabbè 10 secondi per mettere la benzina A chi la mettiamo la benza? E perché proprio a rage? Prova a killarmi dai Prova a killarmi dai Prova a killarmi stranzetto Prova a killarmi stranzetto Ma che è successo? Eh? Ma perché Samu e Rage stanno fermi? Boh Sparata Rage Stava fermo No, Rage era lo sceriffo e ti ha sparato Axel No, no, ero io sceriffo Ah Sono io lo sceriffo Rage stava fermo e detto Boh, gli sparo Questo spiega perché Axel non poteva riportare Rage Esatto E boh, Samu stava fermo Se vi si impalla il gioco Aprite il menù della rotellina E poi lo richiudete Non serve a un cazzo Ti posso garantire che non è servito a un cazzo Perché sono stati 40 secondi 2400 persone Testimoni Che questo funziona Eh? Non mi sentite? Io l'unico testimone che lo faccio 10 volte Rage Ma usci la rotellina premendo esco O ci premi col mouse? Col mouse Con esco Eppure io M'ero bloccato con la rotellina premendola col mouse E sono ripartito Eh, a me non è cambiato un cazzo Io non ho capito se il round di prima Camper abbia preso un ruolo di ingegnere o meno Non sono l'ingegnere Spawn E cos'è che hai detto? Niente Può fixare Lui è il prediletto e fixa qualcosa Dimmi Sono il prediletto che poteva risolvere la crisi Dato che sono immortale Capisci? Vado a passare tranquillamente al reattore senza morire Perché? Perché sono immortale Cristo santo E tu lo sai che sono immortale Spawn No, non lo so Metagaming? Come no? Aia 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 Io non lo so Aia Che palle che si impalla il gioco Diamo la benza anche a Nova Che fai Giacomo? Dio Dio Vabbè raga Io stavo mettendo il codice per vedere il cazzo di admin Axel e Samu? Eh gli ho sparato io ma non volevo l'ho sparato a Samu Vabbè Perché prima era fermo Era fermo con lui Ho messo il cooldown della stessa partita di prima Quindi sono 40 secondi di cooldown Eh vabbè Axel ha smurfato anche su Nova The killer ha smurfato Stavo A darker color Eh Axel Stavo sparando a Samu Samu si è mosso Ho preso Nova Cioè fine Ti è andata bene Lo dico eh Si chiamo Io voto Dado Anch'io Il problema è che io ho ammazzato due persone Eh magari una Può essere che c'è un gesto Può essere che c'è un gesto Può essere che c'è Sono l'harsonist Come fa a sapere che c'è l'harsonist Oh ma non si Che palle sta cosa Mi manda al manicomio Mi manda al manicomio Manca una persona no? Dado? Oh ma ciao Dado Axel morirà? No ho chiamato l'emergenza che? Eh Chi è che vi è vicino? Eh Dado? Così Eh butta fuori Dado No No ho provato a stabbarlo io Perché ho visto che E' letteralmente andrea Stava full inseguendo Dado Ragazzi eh Io sono snitch Ma non mi funziona il ruolo Perché non vedo Chi hai provato a stabbare Axel? Io Camper Eh scusami Perché stavo attaccato al culo di Dado E perché te non sei morto? Perché c'ha lo shield E quindi? Eh c'ha lo shield A quanto pare non muori Ma chi è che stava scendendo da admin adesso? Camper e Axel? O significa che è il killer ma gli hai dato lo shield e quindi non può succederlo? Eh Appunto Ho fatto kill? Non mi pare Shield a caso bravo Mi rispondete un attimo Il problema è che da quello che ho appena capito Se io sparo a un innocente allo shield comunque io muoio Io non sono morto anche se io sparo Quindi forse è Camper Significa? Adesso mi sentisce? Significa che Axel è impostore? Norco Anche Camper significa che Camper non è innocente Raga io sono lo snitch Ma non posso snitchare nessuno Devi fare l'ultima task Lo fate tutto Vuol dire Vuol dire Vuol dire che allora ho mazzarra già tutti gli impostori Ah Eh? Avanzare l'Alosanist Ah Io ho però votato Camper Allora Camper che mi inseguiva era l'Alosanist Ma Perché ha inseguito pure l'Alosanist Cazzo Potevo vincere Mancava solo uno Ma questo match sta a caso comunque Che match a caso perché porca puttana Quell'altro sparso Io bloccato Eh Togli l'investigatore Vabbè Vabbè Totele a caso Una volta in vita mia E appena venisco le tasche Non vedo nessuno Tutto normale Tutto normale Ma Chi ti mancava Andrea? Te Eh Io ero sempre le botte Lui era ingegnere Ma tutte le botte le sono collegate in questa mappa Troppo Ma beh in realtà è perché fai conto Ero sempre col cooldown attivo Camper ti è piaciuta la mia rannata curiosa? Ma perché rannata? Ti devo inseguire per darti la benzina C'avevo anche il cooldown Eh appunto Ti segui io e poi vabbè Trovato la cosa e via Poi hai dato Axel che chiaramente mi spara a caso Vabbè Beh io se mi metto Visto che inizionando mi sei attaccato al culo Poi ho visto che l'hai fatto codato Mi è voluto dubbio Ma non è che è l'Arsonist? Eh in realtà ha sparato prima a Reggio E poi a me Ma cos'è che fa l'Arsonist? Deve taggare tutte Deve da poco alle persone Io letteralmente ho sparato alle due persone Che stavano ferme davanti al tavolo Ho sconato a Reggio che era bloccato Poi stavano andando a sparar a Samu Siamo siamo sparati a Nova C'era chi da a caso Vabbè Sì il Morphling è uno dei miei ruoli preferiti Prendiamo il posto di Cocco Dove cazzo stiamo? Ah su Polus ho messo Ho messo Polus Ho messo Polus Stavo cercando Lo stavo per rivavare Faccio i gazzi tua Stavo cercando il corpicino E cercavo di rivavarlo Però niente A posto così Max cosa hai chiamato scusa Cadavere o emergenza No no chiamate un cadavere in admin Perché c'era Rage che girava intorno al report Il promotore aveva detto vabbè Rage Invece Rage stava cercando il cadavere per rassarlo Eh boh non lo so Ma tu l'hai visto il cadavere Axel No no zero non vedo niente È il cadavere di Samu È il cadavere di Samu perché l'ho visto appena sapato il report Però Ma se lo svupper fa un'utizione rimane invisibile il cadavere Ma si può reportare No No ti sono buggato Semplicemente era più sotto si vede Era attaccato al muro Non so se Rage è davvero il tizio che riporta in vita Non lo so Ammazzati e poi lo scopriamo Nel gioco Rage lo vedevano le telecamere Sembra safe delle telecamere Rage Sembra Sembra Might be safe I don't know Allora Penso che la spia fosse cocco Quindi Quella dove ho messo c'è la levata Eeeh Nova Molto sus Ah Faffanculo sta cosa Alexa spegni il computer Ah ah Sì sì Certo che lo fa This is not Grazie per i 4 No ma vaffanculo No ma vaffanculo Rage lo risponde Rage lo risponde Rage lo risponde Ah questa è impallata C'è il secondo round in poi Che la c'è cinque da sempre Ah che palle Perché forse questa mod è fatta apposta per la mappa nuova E non per le altre mappe No non credo Oh Solo che Un scammer Peccato Cocco Quanto è stato di attento quella scena Penso io stavo per sparare a Giacomo Eh sì Ma come per sparare a Giacomo Stavo per comere il kill bot No te lo giuro che stavo per premere Cioè Io ho travestito Io ho travestito da Cocco Entro Incrocio Cocco E Giacomo sta a Bacocco Il bello è corretto Aspetta Perché quello è uno Uno dei due in me Ma ha fatto un altro Cioè c'è un altro Sì mettiamo mappa nuova Però perché altrimenti c'è troppo bug Secondo me Questa impressione qui Ah ah Mi chiede un po' di ASMR di patatine ragazzi No No grazie Ma te c'è ne quelle patatine Cocco? Buone Non fame ce le ho qua Non voglia discendere a prendermi del cibo E c'è ne quelle patatine Comunque giocare a Polus con 40 secondi di cooldown È tosta Con quattro tasche per i crew Manca il decimo Sì è quello No raga manco io Scusate Pesce Dai Cocco Tra le sue patatine sono deliziose Mamma mia Nice Prendo una patatina E me la mangio Per chilling E me la mangio Prendo una patata Mi ricordo Con Amazon Prime È possibile Subbarsi gratuitamente al canale E supportare i nostri progetti Medico Con la malattia Interessante Questo vuol dire che chi mi uccide Poi gli aumenta il cooldown Sono impestato Oh c'è Axel Amogus Amogus Ho trovato Axel morto in Liberia Allora non so se è tipo una congiunzione astrale Ma io ho appena acceso le telecamere Visione Visione E ho appena visto Spawn accanto al cadavere Però il cadavere non è caduto Però il cadavere non è caduto Quindi potrebbe essere lui Come potrebbe non esserlo L'hai già detto Il cadavere non è caduto Non può averlo killato lui Beh no Visione Non è sicuro Perché magari l'ha letteralmente killato Poi non poteva più andarsene Perché mi hanno fatto una caghe Foscino giuzzo davanti Mi sto prendendo la colpa Adesso sembrerebbe Sostino anche a te Non andrebbe male Io non dico niente Però Io ho un occhiolino Io ho subito una Una moltiplicazione del corpo E con questo schifo In che senso scusa Grazie pigaiciu Per il prime Ma è il doppelganger Occhio Non ti prendo il pubblico Giova Io andrei A cockpit A dare lo scudo alla spia Sì non do lo scudo a uno Nella botola Potrebbe essere Potrebbe essere Il miner O forse la spia è già morte Dove va Rage Dove vai Rage Attenti lo scudo Mi sembri safe Sbaglio uno E Dado Dado che mi stava incolpando prima Per caso Raga Credo Di aver fatto Un grande errore Ho dato lo scudo al killer Che è Rage No Ma cosa mi convini Guarda quel chiocco Ti sta guardando Rage adesso Ma infatti Ammogus Perché io non ci sono nessuno Quindi The killer appears to be A darker color Killato 11 secondi fa E 11 secondi fa Ti ho proprio incrociato In quel punto Caro mio Rage Ti posso dire Che punto Io ero dentro una botola E ho visto passare Tutte queste persone In kitchen Prima ce la Non mi ricordo Quindi per me Allora Basta Raga È Darker Color O è Rage O è Shiba E quindi è Rage Palese 11 secondi fa C'era lui in zona C'è nuova Non sono io Inutile Darker Color Ho incrociato Rage In quel frangente Mi sto girato Che è stato stato stupido Sono anche Darker Color Sono anche Darker Color Darker Color Ci sono nove Age Sì ma Rage In quel frangente Era lì 11 secondi fa L'ho incrociato Lì È sicuramente Rage Ma chi è che mi vuota Sì sì va bene Ok Poi vedrai quando ci saranno Le doppie E dirai Oh no Non era Rage Ma Mogus Il discorso è che 11 secondi fa Ho incrociato lì Rage Mi sto girato Per andare a seguirlo Anziché andare avanti Se fossi andato avanti Avrei trovato il cadavere È Darker Color È Rage Poi Se L'astro Fatto sì Che una persona invisibile Uccidesse 11 secondi fa Ed era un Ed era Shiba Nova Era abbastanza C'era coincidenza Importante Ecco Non era nessuno Mi parla C'era solo Rage L'impressione L'impressione mia È Darker Color Poi è chiaro che ci può essere Il fantasma Lo super che uccide Scusate Scusate Ho intanto la partita Che senso Cos'hai fatto Perché clicco sempre report Anziché Tecnica La resurrezione suprema Hai provato la resurrezione suprema? No Non l'ho provata Perché sbaglio a schiacciare Perché non mi hai fatto sto ruolo Ah Scusate Axe Scusa Shiba E Ah già due volte Ho un gran mal di testa Ma penso di ricordare Che è il primo round Un Darker Color qua in stanza Aveva fatto una cosa a me Ok spawn Perfetto Scusa gliela dovevo Perché ho trollato due volte A parte che spawn Non hai trollato Se ti uccidevi lì Perdevamo il primo Grazie Magixian per il prime Se eravamo? Sì Era 25 Finiva come il round di rage Ok Internet rage era buona ed era nova Nova Swooper Boh chi lo sa Sponsa le cose ma non le dice Pulisci Sbrigati pulire Spolisci Oh È sbuggato Dado Questa è stata una cosa fotonica Mi si suicida Mi si suicida contro Samu E da dove mi uccide Ti tocca madonna Eh Samu comunque È sbagliato Ma poi perché Sbagliato Sbagliato Scusa ma adesso Dado non ha potuto fare una kill adesso Chi ha fatto la kill Che è morto Eh sono io che si Suicidato tu Ah perché su spawn Tra tutti Ma perché non l'ho neanche visto Dado tu mi è ucciso adesso Ho visto solo kill Dado ferma un attimo Quando tu sei entrato in cucina Eh ma non c'è la tempo Per fare una doppia kill Qua Rico No no Samu mi ha Si è suicidato su di me Da 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 Io ho premuto kill Dado ha visto la scena E ha ucciso pure me Dado Non l'ho fatto neanche in tempo A riportare Samu Camper È proprio rage Sei stato veramente sfiga di caso Io lo decimo No se tu che sei stupido Eh no Darker Call Un secondi eri tu rage Porco No non ero io Eh come no Un secondi prima Ero già là dentro No per prima Poi ti guardi il voto E capisci che hai Per forza di cose tu Logicamente A meno che non c'era il caso E il caso ha voluto Che fosse effettivamente no Ma la gola era corretta E che cazzo Vabbè in due Non sanno fare una partita Palle Già faccio i ruoli di merda Che cazzo ero Ah il modifier Quindi nova non chiede per tutto il game Fantastico Mi sputa addosso Ah mi ha fatto tornare in vita Mi ha fatto tornare in vita No Allora problema Dalla kill Porco Dio Porca puttana È stata una doppia Ma so già Chi so entrambi Easy win Blu e viola Spia Sono parsi i doppi Ciao Ah Prima chi Camadonna Le mani in culo Oddio Ci siamo persi Ci siamo persi Eh l'altruista Voleva risuscitare l'altro tipo Axe l'ha reportato Axe non si è infilato le mani in culo Come sempre Come sempre Comunque non penso sia il viola Ma ti ho appena detto Che l'ha richiesto Hai visto male allora Perché il viola Inizio game Non mi ha fatto niente Vabbè Controllo Sì Ma fermo Doppio blu e doppio viola Ma che vuol dire Axel Eh ho visto di nuovo La mia clip Ho fatto con Shadowplay C'è un doppio blu Doppio viola Eh vabbè ma scusa Ma scusa Che vuol dire Axel Ti togli lo sciocomarino Il sciocomarino è Gettere il forte Io ho visto Su mangi e Giacomo Io ho votato nuova Per me non è Né sciba né nuova Semplicemente È un po' patto Chissà chi è Sei un co***o Sei un co***o Per te Giacomo L'impostor Io ho visto due Giacomi Eh sì Io ho visto tre 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 me Uno non botolava però Porca Ma un po' che va a piccarsi le mani in culo Io ci ho provato camper con tutto l'amore del mondo Sì sì ma infatti Oh 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 mi risuscito Mi risuscito Mi risuscito Morto perché Axel Reporta Ma poi ci ho messo un botto per risuscitare Eh 8 secondi ci impiega 8 Ho abbassato 8 Devo abbassarla ancora Perché altrimenti diventa inutile Sì è impossibile Poi con questi guadoni Quanti partiti è andato ormai? Mamma mia che palle Che palle Ma l'alturista mi ha riunitato No perché 8 secondi sono troppi Eh bisogna diminuire il cooldown Eh Ashgamanino Gatoradeino anche Ho tirato il bottone quindi manco Gatorade Semplicemente Appunto Ashgamanino e Gatorade Che ti riguardi la clip e poi fai pure il bottone Nel senso Per il Per il Per me è dato Anche io ho dato dato Io voterei Giaco Vabbè la rifacciamo se è così Però la spia vedi i palini doppi Ma in teoria sono quelli A meno che ne abbiano fixato Ci credo Axel Ma sono quelli Delle vute Sono gli ultimi Che hanno visto il cadavere Quindi Quindi molto probabilmente Vuoi il killer Vuoi il jester La maggior parte delle volte Il killer Perché una roba di standard Sia blu che viola Quindi Picalto Rivedersi la clip Eh rivedi Perché mi è un po' esagerato Eh sì Io sono Io sono Dattorico Quindi nel momento in cui Vedo due colori estremamente Sì Ma che storia c'è Ma chi se ne frega Ma metà persona non sa Non è che con chi sono stati accanto Tutto il gioco Ragazzi Ragazzi voglio dire Tanto avevo già visto Che erano blu e viola Quindi che cazzo cambia Mi sono visto la clip E sicurezza Easy win Ma cosa vuol dire Magari poter avere visto Un altro colore E colpa A parte che io Ho detto che Michelle era safe Perché inizio il game Non mi ha toccato A parte che Da farlo Allora qua L'amorevole Cioè E come si chiama Spider-Man di quartiere L'amorevole Tizio che resuscita Come si chiama Altruista Altruista Bisogna diminuire Il Il cooldown Perché 10 secondi sono troppo L'avevo messo 8 Ma è comunque troppo Essere 8 secondi fermo Può essere che rischi Che il killer camp Rivedeci Oddio Ma perché qua C'è un altro morto Siu Mettigli anche 5 Mettigli anche 5 Mettigli anche 5 No Metti 5 5 Non è mai stato Risuscitato nessuno Eh invece sì Axel Mi è stato sgozzato subito Io potevo farlo Non l'ho fatto due volte Vabbè Giovanni Ho fatto la seconda Tra l'altro Raggiungerei Stato Arruolo di merda Ruolo di merda 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 ruolo Ruolo di merda Adesso mi nascondo Aspetta che facciano la prima kill Perché Adesso tanto Il kill cooldown C'è 10 secondi di kill cooldown No 10 secondi Facciamo sfogare i killer E poi vado in giro per la mappa Tipo adesso Volebbero avere già ucciso No Perché hanno chiamato pure le goms Quindi adesso Becchiamo un cadavere E rianimiamo Puttana la madonna Mi è appena accaduto Il cadavere di camper a fianco Quindi immagino C'è stata una kill Io ho appena visto camper camminare Quindi C'è un problema Io ero a fianco a Mizzino a Dado Prima Quindi Molto probabilmente Autoreport Ma non c'era camper C'erano le goms chiamate C'erano le goms o no Dado Sì C'erano le goms Allora Hai visto il cadavere di camper Ma No 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 Io ho visto proprio Il saccottino Cadermi davanti Per la portata della camper Aspetta domanda Eri vicino a qualcun altro Dado prima? No C'è anche senso Prima Prima quando? Quando è stato Il cadavere di camper? What? Prima Adesso spieghi Ma dove c'è Il corpo Ah è un'elettrica Scusate Ok Il discorso è questo Hai visto camper Morirti davanti E quindi O l'ha ucciso uno invisibile Perché se non avessi visto L'ha ucciso uno invisibile Sì 100% Ok Oppure te Oppure No Ricordo che appena ero sponato Sei sceso Dove sei andato? Da cargo Sono andato verso Telecamere Axel Sono elettrica Axel Ma quando ci sono passato io Camper non c'era Amo 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 Grazie Domenico per il Prime Grazie Checco per il Prime Perché adesso non mi lascerai in vita Perché ti voglio accusare Amo Che tristezza la vita Oh schifo Giovanni mi ha sparato Fine No L'hai ucciso te Body reporter Kill appears to have been a suicide Kill it one second ago Sì Lo stai dicendo per te Axel però Sì no Perché Perché so a memoria Il testo del medico Ma ma lo smetti Sì ma adesso non dice più It was a suicide Dice solamente che è stato killato The kill appears to have been a suicide Punto esclamativo Aperta parentesi tonda Kill it one second ago Vabbè abbiamo capito Abbiamo capito C'è l'accento Schifo No ma tu sei il Jester a sto punto Come? Esatto Ok no ma il Jester È una missione di colpa Esatto Per me Per me Non so Dado perché sei ancora vivo Dado? Lo chiedi a me Non lo so Un po' puzza Un po' sus Ma eh Amo Che ti devo dire? Amo Gus Ah lo so io Amo Gus Amo Gus Amo Gus Non so Sì con niente Dico solo questo Dico solo un logorist Che triste questo live Oh raga C'è tre possibilità su Su otto Sono buone per buttare a caso No? Quando capita agli altri però 100% accuracy Quando capita a noi È finciato ragazzi Il copyright del violinista No no Perché bassa la musica in stream Perché bassa in stream Sì ma beh Stai storando le orecchie Eh tu abbassano Ma che panino è senza il pane? Io sto facendo un panino senza il pane In che senso? Insalata Cipolla Cipolla Carne Insalata In che senso Facciamo No l'ho resettato Che stupido Ecco Ma porco Ma porco Porco A te cosa è successo? E niente Giacomo da invisibile Mi ha sparato da invisibile Io ero tra l'altro Comunque L'altruista Quindi Ero destinato a morire Per farta di cose Sì l'altruista è un ruolo un po' infame Cioè è ingrato 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 Proprio l'altruista come ruolo Mi ricordo che con Amazon Prime La sub è gratuita al canale È gratuita Gratuita È gratis È sbloccato È l'accesso al disco E 5 euro di sconto Sullo stove È morto È morto eh Ho un po' A ritardo Il mio Allora Vi spiego un po' Come è la situazione Axel mi ha dato lo shield Axel è andato su Dal bottone Axel è morto E difatti mi era scomparso Sullo shield Vado sopra Per chiamare Per vedere comunque Se riusciva a trovare il cadavere L'ho trovato E nel frammento Ho incontrato Samu Anche a me Sussava molto Samu Ma ha fatto un doppio passo ambigo Ho detto Boh E poi sono sceso E non ho capito Infatti stava in quella zona Ma stava da cargo Poi dopo è andato A sinistra con La navicella Samu Prezzitto Ma Perché sei proprio tu gioco Samu Oh yes Ha capito Samu E dopo Samu Samu Sotto lui Poi io Cosa A cose incisive Attenzione Negli ultimi tre secondi Caccia fuori uno Anziché lui No ma comunque È bastato pochissimo Rage Vabbè Ma io Capisco come hai ragionato Io voglio buttarti fuori E basta Vabbè Era da un po' di tempo Che ero di buttare Rage Vabbè Grazie Matrix Force Per il Prime Come sempre Si perde Grazie Matrix Force Per il Prime Ci sei arrivato Alla su Rage Figlio di puttana Scale Beh si A buffo Sei salito Certo C'è niente Di meglio da fare Vaffanculo Ti ho visto da lontano Axel Ho visto uno che saliva E' preso tutto Ho dato lo shield Atao Ho detto Mi metto davanti al pulsante La prima volta Vedo Lo schermo che vi Mi paghiamo il pulsante Eh bella call Sono morto Eh bella Call insomma Insomma Diciamo che Rage è salito Ma ha tagliato la gola Come si fa A fare A ottenere Lo sconto Dello store Con l'abbonamento A Twitch Axel Qual è il comando Punto esclamativo Sub Sì Punto esclamativo Sub Per gli abbonati Arriviamo a un messaggio In privato Che c'è anche Lo sconto Per le magliette Mi ricordo manco Chi è l'altro Assassino con me Ora me lo ricordo Guarda Questo video Sto inseguendo io Le armi Che appena Sono a botola Le armi Quindi boh Il fatto è che comunque I morti Non possono risolvere Le cose Vieni qua Ci venuti un attimo Oh yes Amogus Mi toccino Mi sentite? Sì C'è che mi stavo seguendo Anche se non Devo difendermi Stavolta Però almeno So che mi sentite Chi è che mi stava seguendo? Non io Io ero Telecamere Chi mi stava seguendo? Io ero telecamere Io adesso ero in libreria Io medico Perfetto C'era una persona Che mi stava seguendo Dietro di me Magari è il tuo stand Dato dai Va bene Ehi Eddie Che è il posto? Sei giallo Cadavere in corridoio vicino Dove si posano le pistole Te sono sei dove? Scusa Records No Ma hai detto te Records Libreria? No Vabbè Libreria Che cazzo è? Non lo so Caproom c'è scritto Ha crashato il gioco Porco Giuda Ha crashato tutti ragazzi Oh no Che peccato Ma non è crashato A me non è crashato Boh Ora è crashato Vittoria 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 Avete buttato fuori Rage Perché lui ha detto Oh ho visto Rage Passare davanti Fine Sì sì Vabbè stavate buttando fuori Samu Che non poteva parlare Ha detto la sua difesa Ha convinto tutti È un problema questo Vuol dire che Rage Io ero lo super E non ho ucciso nessuno Nel primo round Quindi Dato Non so che cazzo Ha visto Cosa? Amico mio Non posso spiegare 25 ruoli da capo Perché altrimenti Cioè vi spiego Però lo che mi capita a me Poi non è che posso spiegare Tutte le volte I ruoli È un problemino poi Lo sceriffo è da sport Ragazzi Lasciano qualche volta Quattro volte Di filo lo sceriffo Non ho capito E lo sceriffo E mancano due persone Mancano Il codice qual è? Lo stesso Lo stesso Ti metto il cappellino Un attimo C'era già strincatore Si installava all'infinito Ovviamente La gattina Giacomo Sempre io Ma che faccia hai? Io? Ciao ragattino Cambia colore degli occhi In base al colore Del tuo personaggio Non credo Non credo Chi manca? Io team Ma non mi avrei il gioco Brotura Il codice E adesso c'è il cappello Sto sei contento Di A.M.E Amogus Amogus Se sono Prossimo video Sui Noob Gaming Domani sera O pomeriggio Magari forse anticipiamo un po' l'orario Gara GTA Che palle La spia Perché oggi Una volta Due volte ho fatto l'imposto Una volta Ho vinto La seconda volta E mi ha cacciato il gioco Che palle In cucina Sì Scappiamo Andiamo direttamente a cockpit Prima che rigiamo Ammazzi Ehi 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 Due marroni Due marroni Ehi Bianco è morto Vai Tre Arancioni Scusatemi Scusatemi Ma come ci sono tre arancioni Due marroni What? What? Ma che significa? Raga Stop Stop Io ho visto In security Tre Arancioni E prima di tre arancioni E prima di tre arancioni Ho visto due marroni Ora spiegatemi Come? Allora Te lo spiego io Axel ha fatto la kill lì E Cocco Ha trovato i cadaveri Quindi ha Insta switchato il colore E quindi adesso Dov'è Dov'è security? Quindi fuori Axel Allora Dov'è security? Dove sono le telecamere? Eh Sbaglio Non sono mai andato a telecamere Ma la goal di regge Ma la goal di regge è molto molto interessante Perché mi ha spiegato un ruolo che non so fare troppo bene E però mi sa che ha ragione Axel Ah sì perché tra l'altro Tra l'altro E bianco stava insieme a marrone E bianco è morto Samu è morto perché stava insieme a Axel Ero Ero in com E poi è anche botolato Perché poi è botolato in alto È botolato in Credo records O comunque Ma che cazzo hai visto? Ero in comunicazione Ero in comunicazioni con Nova e Michelle Cosa hai visto? No Ho visto i ballini No Non eri in comunicazione con me Si è arrivato da destra in alto infatti C'è proprio come ha detto Camper da records Vabbè Ero il medico Ciao Posto che comunque i calaveri non erano in security Forse poi è perché Se hai visto due marroni Perché ha dato lo shield forse Andrea No questa cosa non funziona così Ero il medico Ciao Oh Oh Sì era il medico è un bel problema Batevano dirlo prima Tra l'arancione Come cazzo è possibile? Si è bugato il gioco raga Forse erano in elettrica No eh Li ho visti in elettrica Non si chiude Sono un dubbio Mi sa che li ho visti in elettrica Però io ho visto il marrone Assieme al Ho visto il marrone Insieme al bianco Non c'è che sto capendo in cazzo Mi sa che erano in elettrica raga Mi sa che erano in elettrica E prima ho sbagliato Che fine ha fatto il giallo? Shower Il verde ha botolato l'ingegnere No Lo blu Il l'ange Andiamo Il l'ange Dai con tutto rispetto Donde? E se sei il culo Eh vabbè Due blu in l'ange No va Stava sopra cadavere di dado Ma No Potrebbe essere il jester Perché il corpo è morto da un bel po' Perché l'ho visto dai vitals Te l'ho visto dai vitals Sì infatti io ero ai palini di admin Ho visto due blu a l'ange Quindi sono andato da 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 admin Cioè da cockpit a l'ange È un tragitto enorme E Nova era ancora sopra lì Quindi sì Può essere il jester Ero tipo Sono jester Koko Shiba Può essere il jester Però è da capire come funziona Io Shiba E sono arrivato sotto Però sì Se Nova stava sopra il cadavere Vuol dire che Non mi ricordo Chi è stato assieme a Dado? Chi è che è morto? Dado sì Dove è morto Dado? In l'ange Non lo so Se Nova è Se Nova è Jester Era a cargo Leggermente più sotto Però sì Cosa? Ero leggermente più sotto A cargo io comunque E Io schippo Io ho tutto il cocco Io schippo Magari non era solo un killer ragazzi Addio cocco Io schippo Anche io schippo Schippa Cocco il killer Tutti schippano Io schippato No io schippato Io sono l'unico che ha schippato Io posso chiedere Perché fidarsi di Cocco il killer Quando Giacomo dice È uno dei due Eh ma io ho troppo dato unicamente Perché Prima vi sono tre palline arancioni E hanno troppo Ancora pensato ai pallini Ma sai Mi ha attaccato Una malattia Non l'hai capito molto bene Mi sono visto tre marroni Non sono mai stato Due marroni e tre arancioni Qualcuno è ucciso per forza Perché era una doppia No Era un medico Era un medico davvero Non l'hai capito Era un medico davvero Il iero swooper Felicissimo Samo mi spara Non può reportarmi Lo sta tipo renderizzando Arriva cocco Dice Vabbè Uccidiamo anche Samo C'era proprio tre arancioni Giù all'elettrico Io ero contentissimo Di avermi capito Spumato cocco Per fargli capire Che ero lo sceriffo Io marroni Io letteralmente Sono stato tutto il tempo Lì in comunicazione Non mi sono mai mosso Io dovrei portare Per tutto la sera Che sono altruista Io non sono altruista Mi fa cagare questo ruolo Io muoio E basta A fare questo ruolo Tanto adesso Mi prende E mi sgozza Mi sgozza fortissimo E' lì che non vedo Di sgozzarmi 10 secondi di cooldown E poi mi staglia la testa Ma Rage Ma cosa mi dici mai? Ma che mi dici mai Rage? Ma che mi dici mai? Vabbè ciao Rage Me ne vado Ma che mi dici Dici mai? Ho visto Ho visto un doppio Purple L'ho visto Non so nient'altro Dove? Dove? In alto a destra Bagni E là intorno Non mi ricordo La zona L'hai Il schedario Alla rotonda Stava anche insieme A un blu Qualcuno sta menzoneando Qua dentro Spawn e Nova Perché eravate col corpo Di Giacomo Stessa cosa che era successa Pure prima Allora Io Stavo facendo gli schedari Nova Povermente mi trolla Come al solito Io posso dire che ho visto Il verde Uccidere il verde Ho visto l'animazione Da esterno Sì Ho visto l'animazione Da esterno E il verde Uccidere il verde Come cazzo Mi ha visto l'animazione Smurfing Non lo so Comunque io ho visto Doppio pallino Viola E ho visto anche Lui quindi Per me era lo sceriffo Dove eri? Lo sceriffo Anche se non è lui Lo sceriffo E ha sparato Cioè non lo so Perché due Viola Stavano a fianco Michelle e Giacomo Forse Io ero carico Era lo stesso Pixely in quel momento Io ho visto Il corpo di Giacomo cadere Appena ho finito la mia task E c'era Nova a fianco E basta Però Nova L'ho visto tutto il tempo Vabbè Io ho visto Due Shiba Può essere Un scericcio Non c'è senso Fare una kill lì A meno che Che cazzo mi ha votato? Nova abbia raggiunto Il 4.000 di IQ Co Giacomo sceriffo Gainta Non sarebbe La prima volta Ora sono Fucking Immortale Sfruttiamo La nostra Immortalità Spawn Mi sembra Abbastanza Safe Lo dico di meta In realtà Oh no Sensibilità Al mouse Al mouse Lento Ma Sarà safe Ah sì Regge quello vero Quello buono Vabbè Vabbè Dado mi sta Dado mi sta Sformato in Samu Amogus Dado mi sta Sformato in Samu Davanti a me E allora è Samu Perché Dado era in elettrica No Ah vivo Dado era in elettrica Ho visto No io adesso ero Stop No Stop Se il Morphling Si fosse trasformato Ti avrebbe Ucciso Nova Stava scappando Non sono passati Comunque 40 secondi In ogni Il fatto L'ho seguito Sto il tempo E sta sformato in Samu Da Dado Sono solo che Camper tu stavi a destra Stavo con Rage Tipo Dado era in elettrica Quindi la vedo dura Tu dove stavi Come stava in elettrica Dado Dado è passata Tanti elettrica Tanti a me Io non l'ho visto Ma no Tu hai visto Dado Diventare Samu Samu Diventare Dado No Dado diventare Samu Eh ma doveri Voglio sapere Sotto il bottone Posso andare in possibile No Te la posso sfuggiare No No Samu Trasformato in Dado Che a fine del potere È tornato ad essere Samu Esattamente Ah Cazzo si Piano piano Prendi far danni Dov'è Samu Dov'è Samu No Fermi No Raghi Voi dire che avete falato Completamente Porca ma No 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 nel gioco Porca Amadoska Ricordatevi Sempre Michel L'ultimo Un 9 è un jester Può essere tutto Oh ma è incredibile che non trovo cadavere Che ci fa Shiba qua? Dai Rage Reporta Reporta L'emergenza Sappiamo che Shiba Prova da killarmi E non può farlo Perché c'ho lo scudo Reporta Da Rage Oh no Ma mi fate fare l'ultima task Per cortesia La tua ultima task era uccidermi? No la task era a destra Ah si 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 peccato che quello Dato Shut the fuck Raga Shiba Avevo 4 secondi di cooldown Nei quali Shiba aveva potuto reportare i cadaveri e mi stoppava Ah era già come Ho sparato Ah Nova perché Nova che cosa fanno? Nova prende si mette a fare quelle cazzo di Ve lo rispiego L'altruista Clicca il tasto Clicca il tasto per rianimare L'altruista muore E ci sono 4 secondi da aspettare Per far si che Rage torni in vita In quei 4 secondi Shiba poteva riportare il cadavere mio O di Rage Fare quindi una self report E fare una fake call E in quel caso io ero morto E Rage pure Non so come Che significa? Ma cosa significa? È popato Un altro Giacomo Fianco Giacomo No io non ero morfato Non ero morfato Lo scudo non l'avevo più Perché era morto il medico Sì Jester Mi piace un botto fare il jester Vento Ah Come lo facciamo il jester Ciao Axel Io me ne fuggo Scherzo Me ne fuggo anche da spawn No 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 Sono in mezzo ai cattivi No 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 Via da spawn Via da tutti Via da tutti Lasciatemi in pace Mi nascondo qui Mi nascondo qui Non mi troverà nessuno Oh Chi No Samu perché ti sei suicidato con il revive Nel mentre Ma perché Ma perché Ma perché Eh? Cosa? Allora Allora Samu è morto Ho visto il suo corpo Quindi Allora O lo ha ucciso Michelle Cosa che non penso Oppure Samu si è suicidato facendo il revive No Sì No Sì Ti dico di sì No Sono un'antruvista allora Diciamolo Te la spiego io se vuoi Giacomo È un invisibile Ha ucciso anche Samu Ah ok Va bene Il fatto è Chi è l'unico che può Aver ucciso Rage Allora Perché in zona C'eravamo io Michelle E non so chi altro Chi è che era Dove Elettrico Elettrico Magari Samu ha fatto la stessa play di prima Uccisione dell'impostore Da sceriffo E in two Morte Da swooper Madonna C'era più triste Samu spara A vista Ve lo dico Samu Probabilmente Probabilmente ha sparato a vista Perché ha visto Penso che abbia sparato a Giacomo Perché Perché Siamo scesi insieme Perché io sono risalita Però avevo visto troppo tardi Il cadavere di Rage Quindi Penso che si sia sparato su Su Giacomo Che era lì vicino E ha reportato poi Forse Michelle Ma tu pensi Ma tu pensi Pales Michelle Pales Michelle Io l'ho votata Che compare in cucina Nessuno Discorso E lo sceriffo Lo avesse morto No Ma Lo sceriffo Era il bianco E ha sparato a Giacomo Ma non se n'è accorto Difatti C'era il corpo di Samu In elettrico Io sono arrivato Sponzo è suicidato Su Samu E tu hai chiamato il bottone Le mani in culo Devi infilarti Perché Io ho chiamato il bottone Semplicemente che ho visto Due camper in telecamera Due camper in telecamera Due palline rossi in telecamera Ne è passato uno O camper Non c'era nessun morto in telecamera Visto che Dada ha riportato in elettrica Allora Io non l'ho riportato niente Ho portato il suo potere Da Da Altruista Per rianimare Samu Sicuramente Può essere il morfling Perché si è flicherato Lo è Seconda cosa No Perché ha iniziato Ad inseguirmi E' molto provo Di che sia camper L'ha detto Vabbè Che sia Giacomo l'impostore Dove sta di lontano Secondo voi No perché Samu Era Samu era semplicemente No no Giacomo è safe invece E Nova sa che sono il jester No Devo trovare Giacomo E sta di vicino Nascondersi in doccia Eh Mannaggia puttana Se spawn Reportava Sicuro Sicuro Mi accusava Perché lo passavo di là Sicuro Mi nascondo in doccia Raga Faccio finta di fare Esa task Giacomo è safe Perché gli ha sparato Samu Samu era l'impostore Era lo sceriffo Non poteva essere Giacomo l'impostore Perché non c'era il cooldown Non aveva tempo Per fare la kill Era in cooldown L'impostore in quel frangente Quindi era solo lo sceriffo Che poteva sparare A Giacomo E si è suicidato Spawn anziché Porca puttana Riportare Era Altruista E si è suicidato Per provare a portare in vita Giacomo E Samu Ma Dado ha chiamato Un'emergenza Quindi Spawn morto Quell'altro morto Nessuno mi ha visto Dado pensa che sia io Solo perché Dado ha visto I pallini rossi In telecamere Probabilmente Qualcuno Che mi ha morfato Forse Giacomo Mi ha morfato Forse Giacomo Il morfling Oh Mi è morto Michel Ho dato il corpo Di Michel Fuori da telecamere Ok Cazzo Mi sono staccato Dai cazzo Di pallini Gli ero Tutto sopra Mi c'è un botone Gli ero in showers Dov'eri? Showers Docce Dettonova Io sotto la scala dove c'era la pedana che passava Posso chiedere? Posso fare una domanda? Signor camper Lei che cazzo ci faceva in docce tutto? Facevo la tasca Di round No raga Tutto round? No Ti dico Non ti sei mosso da lì Allora la task della doccia L'ho fatta Io quella che c'è sopra Main hall Nei bagni La task quella Della doccia Si fa con due click Si Prima verde Si fa in due click La doccia Si No Presto di E devi essere preciso Aspetta un attimo Dato è buono sicuro Giacomo pure Io so buono Tutti buoni No non tutti buoni Ho un dubbio su camper Cocconova Vai basta E tu Axel Cosa sei Scusa Perché nuove Sono buono Cocconova Ciao belli No no Dai Dai Se ci si fa la doccia Non ci casco neanche io Però Ma sarà mica uno stronzo Ma sarà mica un cesto Ha perso il game E dato che cazzo Premo il meeting Popi 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 No Fermi ascoltate Avrebbe remoto Coccona doppia lì Comunque quindi era Sì avrei ammazzuto Ma se tu ne riportavi Quanto ero sospetto Io che ti incrocio Prima di che tu trovi il cadavere Il fatto è che scendo Vedo uno davanti al cadavere Che era Coccona Morfato Se non mi ricordo No ero io Che poi mi sono morfato Da te Cato sembrava un jester Da come face le accuse In maniera stupida Ho detto boh Sarà il jester E sabatevi raga Jester Comunque io Io effettivamente ho sparato a vista Perché c'era Shiba E mi sembra Gioco Infatti io ho visto Samu Sparare a Giacomo Giacomo non si è manco accorto E quindi ho detto Ok Sotto il cadavere di Samu Per essere sospetto Poi ho beccato l'altro Io ero sicurissimo Ero sicurissimo Che almeno uno di due Lo fosse Cato Eh sì Io mi sono accorto Che lui è morto Perché ho fatto il report No no Io l'ho visto morire Durante il report Bello Bello il piromane Bello il piromane Ora devo dare Devo mettere la benzina Su tutti E poi dare fuoco Senza farmi sgamare Però sai che c'è I primi 10 secondi È facile morire Quindi io mi nascondo Mi metto qua Perché Chiaramente Il primo round I killer hanno 10 secondi Di cooldown E se becco un killer Mi stabba sicuro Quindi Sa che c'è Ci nascondiamo Facciamo passare questi 10 secondi 20 secondi E poi E poi Poi metteremo la benzina Sulle persone Io penso che Abbiano fatto adesso La kill dai Hanno fatto una kill adesso Mettiamo la benza Su spawn Dov'è? Dov'è? Ho reportato in main hall Ma il cadavere Non esiste Cioè Non esiste? Come? Main hall Su vado Vado giù Non c'è E l'hanno disintegrato Perché? Io da elettrico Non ne so Hai iniziato la partita Già stavi sotto a fall download Mi sembra un po' Sus È sceso Le scale Che ti devo dire Sì sì È sceso le scale E ho trovato una valle Telecamere E poi No ero io Non è vero niente Ma non so Mi state le telecamere No 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 Chi è che era le telecamere? Ok tu Chi scusa? Io Ma c'era solo spawn Le telecamere Che cazzo stanno gli altri? No 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 È andato via dall'altra Poi quello lì Io andrà Ti ho Eh sono un gesto Che ti devo dire? Ti ho visto Di nuovo? Possibile Forse non volevo morire In primi 10 secondi Visto che sono sempre Il primo a morire Così la butto là Axel Shiba Dove eravate? Non so Mio Vincino Records Elettrico Records? L'unico che ho visto Records è nuova Ero vicino Ero gambe Elettrico oppure Axel? No ero anche io Axel Adesso ho 40 secondi Di cooldown per gli impostori E posso anche muovermi Morire al primo round? Mi sono un po' strano Certo perché sono stufo Di morire per primo Sai com'è? Effettivamente È un po' strano la cocia Però 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 quanto Axel mi stabba? Da uno mi stabba Mi stabba sicuro via Mi stabba sicuro via E dai Una persona Una persona Beccato Spawn Chi è che era Adesso su scale Di elettrica? Noi Io e Spawn Le scalette Per arrivare poi Ai dormitori Allora io sto salito Spawn è sceso Nel frangente Ci siamo ovvio Incrociati Qualcun'altro Allora stava arrivando lì? L'avete visto? No Io ho visto solamente Spawn E scendere le scale Mentre io le salivo E l'ho saputo che era Spawn Semplicemente perché Si sono tolte le comms Praticamente adesso Ma si sono tolte le comms O è Chiamando il rapper? No si sa Non lo so Se si sono tolte le comms O se chiamando l'emergenza Si sono levate le comms Per un frangente Io ho visto un colore Ma non ne ricordo fossi tu E io ho visto subito Perché ero sotto qui Ho visto il nome Scritto con lo Spawn Io ho visto solo Camper che mi ha placato Dove c'è il gemmone Cioè mi ha placato Siamo dove eri siamo Però non ha fatto Ehm Engine room Da odinvezete Che cosa stai vedendo? Io Io stavo facendo Le comms Spoiler Ma l'hai finito o no? Eh non lo so Perché avete tirato il coso Io letteralmente Avevo già spostato La barra giusta Mi sembra C'è la barra Ma dov'era cadavere Shiba? Sì Mainhall Sì sì Mainhall dove sta? Eh No Quel corridoio lungo Dove ci sono tutte le stanzine Ah ma dove Lungo? Cocco invisibile Eh sì Grazie NHLM team 88 per il prime Secondo me I impostori possono essere Spawn e Axel Certo che Axel Oh cazzo Giacomo è crashato O acquittato O non ne ho idea Mi stabba Ma il nome di Shiba Non si vede WTF Oh c'è Samu Stai invisibile Stai invisibile Ho visto Axel Letteralmente Beccati entrambi La casa è un fenomeno Era un Axel Spawn L'ho visto dall'altra parte Non so se lui mi abbia visto Poi Potrebbe essere un morfing Perché ero sui pallini E stavo venendo proprio lì Perché ho visto Due persone in elettrica Che non so chi siano Perché non sono la spia Ripeto Non sono la spia Ho visto due persone in elettrico Ho visto due persone sotto le scale Stavo andando a vedere E non sono arrivato in tempo E ho chiamato Sotto le scale dove? Dove scendi per prendere la piattaforma Lì scusatemi ci sono i pallini? C'erano due testine I pallini sono a sinistra Ma io posso dire Che ho lasciato Spawn è lo super Quindi può poter Di l'invisibilità Di l'anti invisibile L'ultima volta No L'unica persona che ho visto Passare di strada È Samu forse Ma andava verso destra Ho riportato Io ho visto Axel Non so se il morfling Oppure no Io Axel effettivamente L'ho visto ai pallini Però L'ho dato Forse Samu No Samu No Samu Se volete Dico chi sono Vabbè Ve lo dico adesso Io posso usare Insomma Le botole Anche Axel Lo può fare Lo sai Era proprio Axel Non era morto Era anch'io Yes Non è il jester Non è il jester Oh Maddio Ma che cura Ciao Giova Giova Perché mi hai seguito Ma non c'è la mano Era l'Arsonist Io Era l'Arsonist Devo mettere la benzina Samu Devo mettere la benzina addosso Qui se sconso Stava zitto Con quella colla Si votava Ho beccato sempre Dai tu eri Non avevi un po' di benzina Eri tipo Immerso dalla benzina Ogni volta che avevo Ogni volta che mi finiva il cooldown Beccavo sempre Spawn E gli mettevo la benzina addosso Ogni volta proprio A me mi hanno fatto Ma devi mettere la benzina in un round solo O in No 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 Ah quindi mi hai over Sì no In realtà non potevo rimetterla di più Però ogni volta che trovo una persona Che ok È finito il cooldown Spawn di nuovo Eh che palle L'ho già messa Spawn Un altro Ah se l'ho già messa Dax Che palle Un altro Mi ha fatto troppo ridere Che vedo Michel che spunta sniccio Giovanni la inseguiamo Adesso la lascio a lui Tra l'altro Ma tra l'altro Sapevo che era Spawn impostore Nel senso che La call di ship Era corretta Però Ho taciuto Perché volevo Mettere di fuoco Ho chiuso la porta Giove l'ho sgozzata Mi ha visto dato Me la sceglieva col morfling Manca il decimo Chi ha ucciso Chi ha ucciso Giacomo di voi Cosa ha fatto Giacomo Giacomo ha acquittato Giacomo ha staccato Ok Il decimo Qualcuno che vuole venire a fare il decimo Io se vedete faccio l'ultima anch'io Perché Faccio un ride Sì anch'io Siamo in nove Senza che cerchiamo Amogus Bravo Giovanni siamo forti Sì guardo Sì forti Ah super Grazie Danielino per il ride Super Posso essere invisibile Mi sparerà Oh Axel è di là Via Svush 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 Ma? Ma? Ma era Samo inato Axel è diventato Sto per quittare Sto per quittare Sto per quittare Ma dai Che scandalo Che scandalo Non reporta lui Aspetta che reporto io Pensavo che potesse essere L'altruista Ho il gioco buggato Ovvero Ho trovato il cadavere di Giovanni Ho provato a fare report Non funzionava Si è avvicinato camper Ho continuato a fare report Non funzionava Ho detto vabbè Premo kill Non funziona È stato ammazzato Ma comunque non potevo reportare È buggato Fammi indovinare Era in vault C'era qualcuno in telecamere E mi ha visto Letteramente Sai perché non potevi reportare Axel Perché lo sceriffo non può reportare Swooper Arsonis O altri impostori O Joester O altre cose Vuol dire che Giovanni era un cattivo Maxi l'ha appena letto Che era il tasto kill Eh ma anche lo sceriffo Il tasto kill Sì appunto Tu sei sicuro che lui Sì è lo sceriffo Sì Samutek Mi è visto in telecamere Sono arrivato lì Non ho riportato Non ti ho visto in telecamere In vault scusami Davanti ai corpi Non ho riportato subito Semplicemente perché pensavo Che uno dei due Essendo due corpi attaccati Ho detto magari uno si è Ammazzato per rianimare l'altro Ti posso dire che Nova È appena intato Perché Hai dato lo scudo A la persona Meno giusta del mondo A cocco Metagaming Photoshiba Così Scusa Non lo capiamo Quindi lo sceriffo Io mi lavoro Mi suicidano Io Io ho capito che lo sceriffo Possa semplicemente Non può riportare le kill Che fa lui Eh a quanto pare Non riporti Non posso Trovo un cadavere Addio Me la clip Sì Bra Te va a riportare benissimo Io ricordo Il cooldown della benzina Sono scemo Questo qui mi diventa invisibile Ma ok Mi sono un po' divertito Ti diventi invisibile Voglio vedere la reaction Let's go E poi let's go Corri Niente Stabbato in faccia Digestine live Io Nello taver Dica Perché hai ucciso Axe Si è suicidato Il DOS Stavo finendo La cazza di task Non riuscivo a girare La cazza di manopola E l'ho lasciato lì Finché non riuscivo Perché è proprio Shiba Scusate Ma io ero in admin Vedevo un po' di colori Così Io Volevo buttare prima fuori Il Samo Ma che cazzo No va Ti dico che è sotto Quella maschera da Dimmi Di Shiba Grazie Luca Safe Esattamente Ma in base a cosa Come facciamo a sapere In base al Fatto che ero sempre Insieme a Novo Quando hanno fatto le kill E quindi potreste essere Dado non rientrare Quindi potreste essere due O Samo e Shiba No sono Shiba Dado e basta O Samo e Shiba sono No Secondo te Dado Come facevo a sapere Che rinvolte Senza essere in telecamera Dado vota Cocco E si vota Cocco Perdonate Vota Shiba Vota Shiba Oh mi avete convinto Cazzo Che è diventato Grazie Ma come vedete Pensate che ci siano Due impostori Se Ma infatti C'erano la moglie Tra morti E Axel Non potrebbe portare Nessuno Sono stato Me la sono rivista In nuovo per item Ma raga Sono arrivato Su Carri Giovanni Sente il mio mouse Che fa questo Su report Mi si è bancato tutto Mi sa che usciamo Dal game Sì sì No no Ho chiuso la partita Sì sì ok Ciao ragazzi Buonanotte Ciao ciao